la diretta bene allora buongiorno e diamo inizio ai lavori con passo io il microfono a eh Andrea Ungari che è il direttore scientifico della fondazione Ugo Spirito Renzo De Felice per un saluto iniziale grazie grazie a Gerardo Nicolosi al professor Nicolosi per per avermi dato la parola io voglio solamente portarvi il saluto della fondazione Ugo Spirito Renzo De Felice qua oggi con noi ci sarà cioè già il vice presidente e e arriverà adesso il presidente che che è in viaggio però volevo intanto all'inizio portarvi il saluto della fondazione Ugo Spirito Renzo De Felice che ha organizzato insieme all'università di Siena e all'università Guglielmo Marconi questo questo convegno itinerante di di tre venerdì del mese di ottobre abbiamo iniziato la settimana scorsa proprio in fondazione il quattordici oggi siamo qua a Siena ed è sempre un piacere ritornare qua e a breve vi dirò il motivo e e il ventotto poi saremo a Roma con una tavola rotonda che potrete vedere su le brochure che sono che sono a disposizione ehm dicevo è sempre un piacere tornare tornare qua a Siena perché eh vi confesso che questa è stata un'aula dove sono intervenuto giovanissimo credo che avessi trentun anni le prime esperienze in ambito accademico con un professore solo con l'amico con l'amico Gerardo Nicolosi che eh ci siamo conosciuti proprio in quell'occasione ma con un professore che per molti anni ha insegnato in questa università che è Fabio Grassi Orsini al quale eh rivolgo un pensiero affettuoso non c'è più ma insomma ha insegnato in queste aule e è stato un maestro per per tanti un grande organizzatore un grande organizzatore di cultura e mi piaceva ricordarlo qua proprio perché in questa sede abbiamo fatto più più di un convegno dal duemiladue ma poi anche tutta una serie di convegni sul liberalismo italiano che eh facciamo proprio in questa in questa aula e ridò la parola al all'amico Gerardo Nicolosi io ritorno in mezzo al pubblico e vi auguro che insomma questo convegno sia un appunto al di là del fatto cioè noi abbiamo studenti che vengono a seguire le nostre cose spero che sia oltre eh alla al a tutti gli obblighi che gli studenti possono sentire verso i propri docenti no che sia pure però un momento di arricchimento e di conoscenza per ciascuno di voi su un fenomeno così importante di cui si parla tanto e che è sicuramente importante conoscere. Buon lavoro e buon ascolto a tutti. bene grazie grazie Andrea saluto gli studenti gli ospiti eh i relatori ehm io devo dire le devo dire che siamo ho accettato subito di buon grado l'idea di organizzare a Siena un momento di riflessione sul fascismo a cento anni dalla marcia dalla marcia su Roma eh mi è stato proposto un programma eh sul quale che ho condiviso diciamo senza alcun dubbio anche convinto dalla autorevolezza della fondazione Ugo Spirito e Renzo di Felice che da anni porta avanti appunto con serietà gli studi contemporaneistici e a questo proposito voglio ringraziare Giuseppe Parlato che è in arrivo che il presidente è appunto eh Andrea perché appunto sono stato coinvolto in questo progetto ehm devo dire che in questi giorni diciamo stiamo assistendo a un profluvio di iniziative eh eh aventi per oggetto il fascismo ecco che è segno evidente di quanto il tema sia ancora eh diciamo centrale e attragga le attenzioni degli storici e eh e non solo degli storici ecco io ci tengo a dire che questo nostro convegno non ha intenti celebrativi né intenti archeologici ma si eh propone eh proprio come un ulteriore momento di riflessione su un tema che è di grandissima importanza con un obiettivo quello di avvicinarsi per quanto più possibile alla verità storica che credo dovrebbe essere eh ciò che contraddistingue la migliore storiografia e questo già diciamo nella prima giornata di Roma del quattordici ottobre eh a qua alla quale ho partecipato come relatore ecco mi sembra che in questo aspetto sia emerso con grande eh con grande evidenza e se c'è un aspetto del convegno che un carattere diciamo che va sottolineato appunto e che voglio qui eh ricordare è che è un convegno costruito con studiosi che sono collocati ognuno sui temi eh sui quali ha studiato per anni e anni e questo diciamo non sempre eh non sempre avviene non è un convegno di circostanza è un momento di 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 studio e di riflessione quindi io eh darei inizio ai lavori e eh passo la parola a professor Giovanni Belardelli che eh ha insegnato storia delle dottrine politiche all'università degli studi di Perugia eh eh un nome notissimo ha scritto scrive sul Corriere della Sera da ultimo lo leggo anche sul foglio è autore autore numerosi volumi e di saggi storici e pubblicato tra l'altro il volume il ventegno degli intellettuali cultura politica ideologia nell'Italia fascista ma ripeto è autore di numerosi saggi e quindi passo a lui il microfono prego grazie 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 professor Nicolosi grazie grazie presenti grazie a i rappresentanti della fondazione Spirito a cominciare dal suo vicepresidente che si è alzato alle cinque e mezzo quindi io penso che un grazie all'eroico vicepresidente che si è alzato stamattina alle cinque e mezzo a Roma allora detto questo ehm io mh inizierei dicendo di cosa non parlerò cioè la cultura italiana e il fascismo non parlerò anche perché ne parleranno poi a cominciare dalla collega Terquini ne parleranno poi dopo altri relatori e relatrici non parlerò della cultura fascista qual è la differenza la cultura fascista sono Giovanni Gentile Giuseppe Bottai Ugo Spirito Gioacchino Volpe eccetera io parlerò della cultura italiana diciamo in senso in senso lato no e non parlerò neanche della politica culturale del fascismo che pure mi sarebbe stato abbastanza semplice me ne sono occupato cosa vuol dire vuol dire 1931 il giuramento eh di fedeltà al regime dei professori universitari vuole dire quando nacque e cosa fece il ministero della cultura popolare cosiddetto minculpop eccetera non parlerò neanche delle istituzioni culturali del fascismo che pure istituzionalizzò organizzò la cultura in modo molto forte insomma ci sono stati molti lavori molti convegni ce n'è uno in questi giorni sugli istituti culturali fascisti e nazisti diciamo da parte dell'istituto italiano di studi germanici e allora di che parli? Cercherò di parlare di una cosa che cercherei di definire così del clima culturale della relazione che c'era fra gli intellettuali e il regime cos'è la vita culturale? Ecco qualche cosa che mi sono trovato un po' a voglio dire scoprire ma a guardare molto da vicino negli ultimi anni perché mi è capitato di fare un lavoro molto grosso nel senso che mi è costato molto tempo sulla terza pagina cioè la pagina culturale che all'epoca era proprio la pagina numero tre oggi non più del Corriere della Sera. Ecco la vita culturale il clima culturale è quanto si poteva scrivere ciò che si voleva scrivere? Quando è il rapporto fra obbedienza, libertà? Ecco la prima cosa quindi per entrare in argomento che vorrei dire è che questo rapporto l'ho visto bene nella terza pagina del Corriere ma mi sembra che funzioni per la vita culturale durante il ventennio non è un rapporto a senso unico. Non so mi rivolgo soprattutto agli studenti se avete mai sentito parlare delle celebri veline del ministero della cultura popolare cioè dei fogli, veline perché battute a macchina in tante copie con la carta carbone, che dicevano ai giornali scrivete così o scrivete cosa? Cioè l'ordine che arrivava. Ecco le veline nel campo della cultura c'erano altro che se non c'erano, crescono nel tempo e su questo poi dirò qualcosa meglio sulla questione tempo, però il rapporto non era un rapporto a senso unico, c'era un rapporto in cui c'era il comando e la richiesta di obbedienza, ma era una obbedienza che era però sempre un po' contrattata. Cosa si intende per contrattata? Ecco che non c'era un ordine, tu obbedisci, cioè io ricevo l'ordine, mi scanso e faccio finta di niente, l'ordine viene reiterato e così via. Esempio. Faccio l'esempio appunto della terza pagina del Corriere della Sera, uno scrittore che oggi ha i più, forse a tutti non dice nulla, Lucio D'Ambra, ma era uno che scriveva best-seller, romanzi, opere di narrativa che vendevano per Mondadori tantissimo, l'autore più venduto di Mondadori negli anni trenta. Ecco già nel 1926 il direttore del Corriere della Sera riceve una forte raccomandazione, mi pare, di Giuseppe Bottai, perché lo assuma come collaboratore al Corriere, che erano non pagati, erano strapagati i collaboratori della terza pagina del Corriere, viene assunto dopo successive pressioni, sì nel 1930 e la vicenda su cui non mi posso soffermare ma è molto interessante avendo visto tutti questi carteggi fra la direzione del Corriere e i vertici del regime, il Duce vuole, il Duce ti ordina, il Duce deve fare così, sì ma io avevo capito, insomma tutto una manfrina verrebbe da dire. Caso Brancati, no? Altissimo scrittore, italiano Brancati, inizia questa serie di raccomandazioni, le fa Galeazzo Ciano, non è che le fa l'ultimo arrivato, perché venga assunto come collaboratore nel 1935 e viene assunto? Cioè sì, e quando viene assunto? Nel 42 e perché viene assunto? Perché nel 41 aveva pubblicato il suo romanzo di successo, Don Giovanni in Sicilia, cioè il direttore del Corriere, alla fine questa raccomandazione, raccomandi oggi e dico no, quando poi fa comodo, ecco cosa intendo per un comando e obbedienza che sono contrattati, no? Quando fa comodo a Corriere è la terza pagina del Corriere, quindi una modalità di questo tipo, di una contrattazione e mediazione continua. Attenzione, attenzione, stiamo parlando delle modalità in cui si esercita, lo dico una volta per tutte, la vita culturale e intellettuale in una dittatura, non è che, poi dopo non lo devo ripetere che è una dittatura, se io dico che il direttore del Corriere resiste a questa, non vuol dire che era libero di fare quello che gli pareva, vuole dire però una cosa, come capite, è importante, cioè ci sono spazi di autonomia che si manifestano in questa dimensione appunto della contrattazione. Io riprendo spesso, per definire questo clima, quello che disse uno dei maggiori storici del fascismo, Roberto Vivarelli, definendo un regime di convivenza. La convivenza vuole dire appunto esprimere quello che io ho cercato di dire fino adesso e cercherò di dire un po' meglio. E in realtà è una cosa che prima ancora di lui ha detto, parliamo degli anni 70, in una famosa, un famoso libro, famoso all'epoca, intervista sull'antifascismo, uno dei maggiori esponenti del partito comunista italiano, Giorgio Mendola, quindi assolutamente non sospetto di indulgenza nei confronti del fascismo, quando in questa intervista sull'antifascismo fatta lì da uno storico, Piero Melograni, disse al mio amico Lelio Basso, che era un intellettuale socialista, cioè io dico questo, che tu non puoi continuamente dire che il fascismo era come il nazismo, perché tu sei stato in galera, aveva partecipato a un piccolo gruppo di giovani antifascisti eccetera, basta, sei stato poi scarcerato, sei andato a Milano 1930, era avvocato, hai fatto l'avvocato dal 1930 al 1940, l'hai potuto fare, te lo hanno lasciato fare, ecco il regime di convivenza, che mi sembra anche una particolarità appunto della vita culturale italiana e forse per molti aspetti del regime mussoliniano e della dittatura fascista. Allora, due giudizi dai taccuini di guerra di Benedetto Croce, tra l'altro la presenza stessa di Croce che con delle autocensure, con delle forti cautele, continua a pubblicare i suoi libri, pubblica la sua rivista alla critica, è la testimonianza di questo regime di convivenza, in un interesse reciproco certo del regime che dice ma quale dittatura? Vedete c'è Benedetto Croce, facciamo fare quello che vuole e però anche di un simbolo, qualcosa che fu molto importante, che non è stata la storiografia per tanti motivi, a cominciare dalla fortissima svalutazione di tutta la tradizione culturale e politica liberale dopo il 45, ha fortemente sottovalutato, ma questo lo faremo in un'altra sede, un'altra volta, questo discorso della, mi convinco sempre più, assoluta centralità per degli intellettuali dell'epoca, se leggete degli epistolari, qualcuno di questi ha avuto con Croce, capite che cosa voglio dire, la centralità della figura di Croce, che ci fosse Croce veramente per loro qualcuno che gli autorizzava a sperare, insomma, no? A guardare con qualche ottimismo al futuro. Allora, annota Croce il 16 gennaio 1945, in fondo io sento, quindi il fascismo è caduto ma non è caduto, cioè la Repubblica Sociale, eccetera, in fondo io sento negli abiti letterari il fascismo persistente sotto vesti mutate e tutta questa folla di intellettuali o semi intellettuali, per inciso è bella questa definizione dei semi intellettuali, che si scrive, specie in Roma al comunismo, ricorda tristemente la ressa che i consimi di arrivisti, sottolineato, fecero per iscriversi al fascismo. Questa citazione cosa ci dice? Che questo regime di convivenza, la cosa meriterebbe non una relazione ma un convegno a sé, quindi non la posso sviluppare, la voglio solo segnalare, questo regime di convivenza, di, come dire, ordini che vengono in parte obbediti, in parte no, contrattati, eccetera, corrisponde forse a un'antropologia dell'intellettuale italiano, e forse non solo italiano, direi, che meriterebbe di essere studiata. Prima, forse prima, durante sicuramente, durante e dopo il fascismo. Altra notazione, 22 luglio 45, in Germania, scrive Croce, i nazisti mi avrebbero giunto al potere, uno come me lo avrebbero soppresso, ma il fascismo era tutto sommato italiano e dall'ambiente italiano raffrenato a commettere certe bestialità. Questo lo dice quello che era riconosciuto, diciamo, un po' dappertutto come l'intellettuale antifascista per Antonio Masi, a Benedetto Croce. Cosa ci dice questo? Ci dice che il fascismo, come è noto, mette in opera una poderosa macchina per, come diceva, fascistizzare gli italiani, ma che, come sempre avviene, insomma, la storia, la cultura in senso profondo di un popolo, di una nazione ha la sua importanza, in qualche modo appunto c'è molto un elemento italiano, la famosa, la celebre autobiografia della nazione di Gobetti, sì, se noi la intendiamo però in un senso forse ancora più ampio di come intendeva Gobetti, cioè l'autobiografia della nazione valeva per tutti, insomma, anche Gobetti era, non sono Mussolini, un prodotto dell'autobiografia della nazione, elementi di fondo di una cultura. Quindi questa vita culturale italiana che si può, secondo me, sintetizzare come regime di convivenza affonda le radici in fiumi carsici, in tendenze profonde della cultura italiana. Questo si vede però, al di là delle opinioni di questo, quello storico, mio personale, anche in cose poi molto banali, adesso cercherò rapidamente di descriverle. Anzitutto ha un riscontro nei tempi, uno storico tedesco, Hans Ulrich Tamer, che ha parlato della vertiginosa velocità con cui è arrivato al potere, stabilisce una macchina di controllo sulla cultura Adolf Hitler, il famoso e famigerato Ministero dell'Educazione Popolare e della propaganda. Il Ministero della Cultura Popolare in Italia nasce nel 1937 della sua più compiuta organizzazione. Prima è un sottosecretariato dal 1934, poi diventa, adesso lasciamo da parte i dettagli delle trasformazioni, però è un processo molto lungo ed è un processo che deve qualcosa proprio a copiare il Ministero di Goebbels. Quindi c'è questa enorme lentezza, se da una parte c'è la vertiginosa velocità, dall'altra c'è la stupefacente lentezza di una dittatura che appunto ci mette così tanto a controllare. Se voi studiate, a me è capitato di farlo, ma che cosa diceva il regime ai giornali, in particolare sulla terza pagina? Niente. All'inizio, per tutti gli anni venti, sostanzialmente niente. Poi qual è la raccomandazione cella per recensire questo libro di un amico del regime? Cioè, robetta. La macchina si robustisce quando? Si robustisce con la guerra d'Etiopia, evidentemente. Ma siamo a metà degli anni trenta, quando mancia su Roma, cosa sappiamo, è stata cento anni fa, nel ventidue, no? Allora, vediamo alcune caratteristiche di questo clima culturale. Io procederò per in modo generale, naturalmente so bene che la cultura di un paese è fatta di tante cose, di tanti settori, ma capite bene, non non ne usciamo vivi, se no, insomma, dobbiamo stare qui ore e ore, dovremmo. Una cosa che però va detta è che naturalmente la cultura è fatta di tanti settori, è fatta anche di settori che hanno a che fare più con le discipline scientifiche. L'ambito del quale qui mi occupo, cioè non me ne occupo, però l'ho presente come ambito di fondo, è sostanzialmente quello che definiamo in senso molto lato umanistico e naturalmente le cose variano moltissimo. La cultura italiana è fatta per esempio degli architetti. Gli architetti fu un periodo fantastico, insomma, il mio collega e amico Vittorio Vidotto ha scritto per Roma, ma questo vale anche per l'Italia, che gli anni trenta furono l'età d'oro, per tutte le cose spesso molto belle, a volte meno belle o francamente brutte, che sono state costruite, però fatto sta che per gli architetti fu veramente un periodo fantastico. Per gli studiosi dell'antichità romana, per gli antichisti fu un altro periodo super fantastico, questo l'ha notato appunto Luciano Canfora, improvvisamente loro studiavano i loro testi, non gli non importa niente a nessuno delle cose che facciamo noi e si trovano un regime che, come sapete, fa del mito di Roma il suo mito fondatore. Anche questo appunto dà un enorme spazio, un enorme ruolo, più diverso ed è stato studiato la posizione dei demografi, per certi aspetti molto imbarazzante, quando c'era con gli anni trenta la politica non solo demografica, ma razziale, razzista del regime. Però c'è anche da notare, e posso solo notarlo, ma qualcosa che mai su cui sono state fatte, vengono fatte continuamente mostre, il rapporto di qualche intrinsechezza che c'è fra le arti figurative, la pittura e il regime. Nel 1919, quando vengono fondati nella riunione di Sansepol, la piazza Sansepol Caminani, i fasci di combattimento, ci sono molti artisti, c'è Carlo Carrà, c'è Ungaretti, c'è Marinetti, c'è Ardengo Soffici e questa contiguità tra il fascismo, la poesia, le arti figurative soprattutto, rimane. C'è una mostra di pittura, il 1923, che inaugura della corrente cosiddetta del Novecento, che era un po' tenuta a battesimo, sponsorizzata dalla Margherita Sarfatti, come il noto aveva un rapporto molto stretto, diciamo, era l'amante di Mussolini, fu per molti anni. Qui Mussolini dice, ma io sono un artista come voi, io sento che apparteniamo allo stesso mondo, e c'è malasalto, un'osservazione di Giuseppe Prezzolini, il quale dice, ma ci pensate alle case prima del fascismo, prima della guerra, non trovavate le cose che invece voi potete trovare appunto negli ambienti fascisti, cioè sono ambienti che amano quest'arte, amano questa pittura. E fate il confronto appunto fra Mussolini, che dice queste cose a una mostra di una corrente, diciamo così, pittorica di avanguardia, come era il Novecento, e la celebre, veramente famigerata mostra del 1937 sull'arte degenerata, fatta fare da Adolf Hitler, perché l'arte degenerata era un'arte non messa in mostra, come in tutte le mostre, ma era un'arte messa alla gogna, ed era l'arte di avanguardia. Perché? Perché era un'arte corrosa, avvelenata dal virus, riteneva Adolf Hitler, giudaico. Ecco, se guardate, poi Hitler sapeva dipingere, come forse sapete, e riferisco agli studenti, perché i colleghi lo sanno benissimo ovviamente, dipingeva dei quadretti banali, come quelli che si trovano nelle fiere di paese, poi un amico l'andava a vendere, a vienda, campava con questo. Se vi capita, guardatele su internet, delle chiese fatte proprio come sono, delle cartolinette, insomma, delle cosette da nulla, insomma, e invece in qualche modo, potremmo anche spiegare perché, ma il discorso si farebbe lungo, Mussolini respira, molto grazie, diciamo, alla Margherita Sarfatti, però respira invece questo clima delle, delle avanguardie artistiche. E quindi c'è questa contiguità fascismo-ambienti dell'avanguardia artistica. C'è anche naturalmente, se noi dobbiamo dire il fascismo, cioè la cultura è fatta di tanti ambienti, di tanti ambiti molto diversi, anche il fascismo è fatto di personaggi e ambienti diversi. In estrema sintesi, possiamo dire che il rapporto del fascismo con la cultura italiana, con gli intellettuali, è un rapporto che in alcuni esponenti si basa sulla collaborazione, sempre dentro, ho già detto, dentro il quadro di una dittatura, per carità, in altri invece si basa sull'epurazione, via tutti quelli che non sono fascisti al cento per cento. Voi capite bene che questo rapporto, lo storico Roberto Pertici, mi è capitato di leggere di recente, ha parlato della politica dell'inclusione a proposito di Giovanni Gentile, ideatore e animatore della enciclopedia italiana e di tante altre cose. Ecco, non è la stessa cosa se un rapporto si basa sull'inclusione o sull'esclusione, perché, esempio telegrafico, Ugo Lamalfa, poi diventato nell'Italia repubblicana appunto leader del partito repubblicano, nel 1930 dopo un breve arresto viene liberato e la politica dell'inclusione fa sì che trova, può trovare lavoro appunto all'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Una insegnante delle superiori a Torino, antifascista, Barbara Allason, l'anno prima, ha firmato una lettera di solidarietà a croce dopo un suo famoso discorso in Senato contro i patti del laterano e viene cacciata dalla scuola. Quindi capite che siamo sempre dentro una dittatura, ma avere a che fare con la politica dell'inclusione o incontrare quella dell'esclusione cambia molto le cose. Allora, cerchiamo di descrivere nei caratteri generali questo clima culturale. Mi baso sulle moltissime cose che sono state scritte, il fascismo si è prodotto negli ultimi decenni tantissimo e direi che sulla cultura però nei suoi vari settori forse forse ancora di più, no? Perché interessa anche studiosi evidentemente di letteratura, di architettura, insomma esistono su Marcello Piacentini, autore del famoso palazzo di cui si parla in questi giorni, nel 1932, bla bla bla, per la cosa di Mussolini. Ho letto una biografia di un certo Nicoloso, che è uno studioso appunto quasi omonimo di storia dell'architettura, veramente notevole. Quindi, allora, un punto, primo punto, diciamo così, senza ordine gerarchico, l'apertura al mondo, no? Decenni fa andava molto, diciamo, si portava molto all'interpretazione della chiusura del... beh, insomma, un attimo, un attimo. A un certo punto, indubbiamente sì, ma a un certo punto anche qui i tempi, molto, molto in là nel tempo. le traduzioni, che possono essere un modo per misurare appunto l'apertura di una cultura. C'è un inglese che insegna in Italia, Stephen Randall, che ha pubblicato di recente un libro appunto sulle traduzioni, che è abbastanza stupefacente. Io qui vi risparmio i dati via per non farla troppo lunga, insomma, no? Però Cesare Pavese, che era contemporaneo di queste cose che stiamo raccontando, scrisse degli anni 30 come decennio delle traduzioni. È un decennio che, come dirò, poi non dura proprio dieci anni, finisce prima, però significativa. La collana Medusa di Mondadori, che è una collana sulla letteratura straniera, nasce nel 1933. Il processo di Kafka viene pubblicato, mi pare, in Italia, adesso non mi ricordo più, se prima viene tradotto prima che in Inghilterra o in Francia. Va bene, ma non importa. Per dire che questa poi, la misurazione che ha provato, certo è una cosa un po' rosa, però qualcosa si dice, Randall, ecco, si traduce di più nell'Italia fascista che in altri paesi, certamente nella Germania nazista. A volte si traducono libri che sono banditi nella Germania nazista. naturalmente, attenzione, la storia è sempre fatta di cose contraddittorie, di chiaroscuri. Spesso questi libri tradotti vengono tradotti in questo regime di convivenza, in questa censura contrattata, chiamiamola così. Qui non ti censuro soltanto, cioè ti censuro e tu mi rispondi sì, ne possiamo parlare, discutiamo, eccetera. Allora, in questa discussione che succede? Che nel romanzo tal dei tali che non dovrebbe essere pubblicato, se però questa paginetta che contiene queste cose che non corrispondono magari semplicemente all'ideologia del regime dal punto di vista del ruolo della donna, per dire se la potessimo un po' tagliare, allora te lo faccio pubblicare, per cui non va tenuto conto di questo. Fatto sta che non c'è quella, quell'immagine dura, monolitica del regime chiuso per tutti i suoi vent'anni che si era accreditato, ormai insomma non la sostiene più nessuno. Da un libro di lettere giovanili di Alberto Moravia trago una lettera intellettuale antifascista Nicola Chiaromonte del 1932, lui scrive da Londra fra l'altro Moravia, girare per le capitali europee non dico che col fascismo sia molto facile, ma non è impossibile, no ecco questo mi sembra che non ci vuole dire che vabbè fascismo non conta niente, no no per carità, è complicato, però non è impossibile, no quindi l'apertura al mondo l'apertura al mondo evolve nel tempo, il decennio delle traduzioni finisce un po' prima, finisce un po' prima perché forse anticipo una cosa che avrei detto più più in là, perché forse non ci arriverò a quel più in là, la progressione temporale di questo regime di convivenza è assolutamente tutto, no? Cioè già con la conquista dell'Etiopia e quindi col col clima interno e con i controlli sulla stampa, sulla cultura che si fanno abbastanza più efficienti, le cose cominciano a cambiare, nel 38-39 cambiano molte cose, ci sono ovviamente le leggi cosiddette razziali, cioè contro gli ebrei, vengono cacciati dall'università, quindi vedete che questo regime di convivenza non è una cosa contrattabile, anzi per niente, se un professore ebreo fascista dice ma io sono francista, sei ebreo e ci sono casi abbastanza noti di questo tipo, no? Ci sono le leggi razziali, ci sono tutta una serie di episodi appunto in cui si cerca di estendere la repressione su base razziale, no? In cui si ha detto per inciso tutta una serie di aspetti negativi poi della vita culturale che si affermano in Italia e di chiusure, sì certo noi li addebitiamo giustamente a regime, ma forse anche diciamo a un conformismo profondo diciamo di tanti intellettuali, cito soltanto il cosiddetto censimento razziale degli appartenenti alle accademie, cosa sono le accademie in questo caso sono le queste associazioni culturali le più varie che non danno reddito, danno prestigio a un intellettuale che vi appartiene e che deve dichiarare, c'è un modulino, deve dichiarare se è ebreo oppure no, se è cattolico, quindi se uno lo rimanda indietro non compilato è che lo cacceranno dall'accademia e tanti saluti, non è proprio una cosa gravissima, non è come perdere il posto all'università. Ebbene diciamo siccome sono stato pubblicato un libro su questo sono state analizzate tutte queste schede c'è solo una persona che si rifiuta di rispondere a il succitato Benedetto Croce con una lettera che non so non vi posso leggere però devo dire sarcastica, molto molto bella. Poi c'è nel 38-39 l'accordo culturale italiano tedesco, cioè fascista nazista possiamo dire che non ha grandissime conseguenze pratiche ma è un segnale dei tempi, inizia i suoi lavori la commissione di bonifica libraria in cui non si capiva bene poi qual è il criterio di bonifica. Alla fine il criterio di bonifica diventa molto banalmente uno, i cognomi, cioè l'appartenenza attraverso i cognomi alla tra virgolette terrazza ebraica o meno. Le norme sull'editoria e quindi la relativa libertà di pubblicazione e di traduzione particolare a cui ho accennato che si va fortissimamente restringendo. Anche se anche qui il tempo c'è tutto molto lento, tutto molto lento. Randall in quel libro che citavo ha notato come un vero controllo sulle traduzioni, adesso non mi ricordo se il 41, 40, 42 ma durante la guerra addirittura bisogna aspettare. C'è la chiusura mi pare nel 39 sia i film stranieri semplicemente perché lo Stato vuole il monopolio dell'importazione e allora le grandi compagnie, le grandi majors americani, arrivederci e grazie noi non vi mandiamo più i film però appunto ci sono tutta una serie di dati che effettivamente portano in direzione della autarchia culturale. Per cui questo discorso che sto facendo gli anni 30 fino a un certo punto finiscono abbastanza presto. Allora abbiamo detto la autarchia che all'inizio non c'è ma anzi c'è una certa apertura per essere una dittatura. C'è una grande capacità di attrazione del fascismo. In questo clima di discussione, di convivenza eccetera, spesso questa capacità di attrazione è stata interpretata un po' moralisticamente, no? È noto la quantità notevole di denaro che a partire dai primi anni 30 e soprattutto dalla metà del decennio viene data a le più diverse figure di intellettuali, soprattutto scrittori, giornalisti eccetera. Non basta, non basta. C'è qualche cosa di più che semplicemente diciamo vabbè prendono i soldi e aderiscono a regime. C'è proprio una tendenza a diventare famosi, entrare nell'establishment. Vi faccio un esempio, vi faccio un esempio. Una delle date, degli episodi più noti della vita culturale nei rapporti con il regime sono i famosi due manifesti degli intellettuali, 1925, il primo fascista di Gentile e l'altro di Croce, che all'inizio apparvero nel 45 e vennero definiti da Piero Calamandrei come la fotografia, diciamo così, di due schieramenti che attraversarono senza mai incontrarsi un ventennio. Esattamente il contrario, diciamo, se noi guardiamo le firme del manifesto antifascista di Croce, vediamo proprio un continuo transito verso il regime. Un esempio che mi è capitato di studiare abbastanza in dettaglio, Emilio Cecchi, principe dei critici letterari in quegli anni. Ebbene, Emilio Cecchi, firmatario del manifesto Croce, nel 1940 entra all'Accademia d'Italia e scrive una lettera che è stata pubblicata a Bottai, a Mussolini, sorprendente. Li ringrazia, dice, devo soprattutto a voi, ma non che mi avete fatto entrare, ma di essermi stati di guida, di guida, venito Mussolini. Sì, di avermi spitto pian piano, adesso non mi posso soffermare sui dettagli, ma in questi 15 anni ci sono una serie di reciproci segnali, una marcia di avvicinamento da una parte di Cecchi, che è una, diciamo così, politica di accoglienza dall'altra, con una serie di benefici, di riconoscimenti, fino a che diventa Accademico d'Italia. Attenzione, diventa Accademico d'Italia. Se voi consultate una grande e importante opera che è il Dizionario Biografico degli Italiani, siccome poi la voce Cecchi, lettera C, uno dei primi volume, è stata fatta negli anni Sessanta, provate a trovare queste cose e non le trovate. Perché? Perché erano cose imbarazzanti da dire. Allora c'è scritto che Emilio Cecchi sarà Accademico dell'Incei dopo il 45. Verissimo, ma era stato Accademico d'Italia. Non sappiamo come interpretarlo e allora diciamo così lo mettiamo sotto il tappeto. Questo si potrebbe ripetere all'infinito, a cominciare da quel grandissimo giurista che era, l'appena citato, Piero Calamandrei, sicuramente antifascista. Il suo diario degli anni di guerra, Seconda Guerra Mondiale, è stato pubblicato. Lui brinda con un suo amico, anche lui antifascista, quando scadono, alla fine degli anni Trenta, la possibilità di riscriversi al partito. Brindano e dicono, tiè Mussolini, noi non ci siamo iscritti, vai a quel paese. Quindi sicuramente un antifascista. Ma era Calamandrei che ha detto, i due manifesti, ma come? Calamandrei viene chiamato nel 1940 dal ministro Guarda Sicilli, Dino Grandi, per redigere il codice di procedura civile. Lui valuta, non perché fosse fascista, ma dice, ma è meglio che lo faccio io o lo fa uno fascista? Forse è meglio che lo faccio io. Faccio una cosa fatta un po' meglio. Per dire, la capacità di attrazione del regime, è una capacità fortissima, che non va poi oggi affrontata allora, come dire, rovesciando il giudizio, dicendo, ah, Calamandrei, hai detto un sacco di bugie, pure tu fascista. No, no, però diciamo dentro questa politica della contrattazione, della censura contrattata, appunto, c'è la possibilità che ci rientra il super fascista e l'antifascista. Ultima osservazione, allora, a questo punto, per chiudere, appunto, sulla censura. Allora, noi siamo abituati, viviamo per nostra fortuna in un regime democratico a considerare la censura, c'è un concetto molto semplice, no? In un certo modo. Ecco, dobbiamo pensare che il significato era del tutto diverso. La censura sta tutta dentro questo regime di contrattazione, no? Un storico che ha scritto di recente, tre anni fa mi pare, un libro molto importante sulla macchina, diciamo così, dello Stato durante il fascismo, la macchina imperfetta si intitola, cioè Guido Melis, ha citato il caso poco noto, anche se studiato dagli specialisti, del prefetto Zurlo. Che faceva il prefetto Zurlo? Faceva la censura teatrale. Diceva, no, questo non si può pubblicare. No, non diceva così. Dice, guarda, questo non si può pubblicare perché tu capisci per i regime queste cose, non si possono dire. Però già che ci siamo, ti dico anche che, francamente, una scena così è noiosa, la gente sbadiglia. Io ti avrei proposto, ecco, questi suggerimenti. Cioè, lì è l'esempio fosse ineguagliabile di censura contrattata che diventa collaborazione, no? Come nelle sceneggiature di un film che spesso chi fa il soggetto iniziale poi si associa a qualche altro sceneggiatore e la fanno insieme, no? Allora, la censura non è una censura solo politica, no? Spesso anzi è una censura molto crude, che è una censura che riguarda i costumi sessuali, eccetera, eccetera. A questo, diciamo così, tralasciamolo perché vorrei dire una cosa è fare un esempio e poi davvero chiudo. No, la censura non riguarda gli antifascisti soltanto. La censura riguarda i fascisti e gli antifascisti, cioè la censura fa parte del sistema. Vi citavo la terza pagina del Corriere della Sera. Se uno aveva l'onore e anche la quantità, ho detto, di denaro notevolissima di scrivere sulla pagina culturale del Corriere della Sera, poi non è che poteva dire io scrivo questo e va. Poi all'osservazione, guarda, questo non si può dire, cioè c'era una contrattazione, c'era un'accettazione anche sul potere del massimo censore, che era lui il duce, insomma, no? Era pienamente accettata. Spesso a essere censurati erano dei fascisti, no? Un caso, che questo ho studiato, è di un giovane scrittore rimasto sempre nell'intimo fascista e squadrista, Marcello Gallian, che scrive a metà degli anni trenta un romanzo su Roma, sulle periferie, con un'aspra e dura storia d'amore fra un giovane, una assai più grande, se non addirittura anziana commerciante, basso fondo, appunto. Marcello Gallian si vede questo libro censurato, e lui è fascista, e nello stesso tempo è censurato in questo suo libro, ma costantemente aiutato, perché invia lettere così di supplica, come tantissime altre persone, ai vertici del regime, a Mussolini, personalmente riceve sempre degli aiuti, quindi la censura e l'aiuto, l'essere aiutati e l'essere censurati, stanno assieme. Spesso un articolo censurato su un giornale veniva pubblicato, magari in una rivista, che la leggono meno altre persone, ma quindi non c'è la censura, bruciare, no, era più complicato. Ultima cosa, ultimo, sì sì, sarò rapidissimo. Massimo Bontempelli, noto scrittore, Massimo Bontempelli, in tutti i testi che mi è capitato di leggere, compreso alla Getty Foundation, mi pare a Los Angeles, la biografia di Bontempelli, che leggete, appunto, che lui venne espulso dal partito fascista, appunto, per la sua opposizione al regime, in particolare dopo una dura conferenza dalle implicazioni antifasciste di commemorazione della morte di D'Annunzio. Un po' è vero, un po' è vero questa conferenza, si dicono delle cose, adesso qui non trovo la citazione, ma non non importa. Allora il punto qual è? Che si legge sempre questa cosa, che lui nel, mi pare, gennaio 39, se non ricordo male, fa questa conferenza, insomma, era accademico d'Italia, era un personaggio di grandissimo spessore, gli viene ritirato il passaporto, perde la collaborazione alla Gazzetta del Popolo, che era un importante giornale italiano all'epoca di Torino, insomma, è rovinato. E lì finiscono le biografie, un momento, lui cosa fa? Scrive a Bottai, chi ha Bottai dice, ma io non mi fanno più entrare all'Accademia d'Italia, Federsoni ha, che questione poi la responsabilità, coraggiosissimo, gli vieta, dice al portiere non fate entrare i bontempelli. Allora si parla di distacco definitivo dal fascismo, distacco definitivo dal fascismo. Ma però che succede? La seconda parte della storia, eccola la censura, l'aiuto, bastone la carota se vorrete, sì. In giugno viene riammesso da Mussolini al Partito Nazionale Fascista. A me questo non è capitato di leggerlo, non viene letto, non lo si trova scritto. Ma paradosso dei paradossi, questo episodio che ha indubbiamente rovinato la vita di Bontempelli per alcuni mesi, poi dopo che succede? Gli ha fatto perdere la collaborazione alla Gazzetta del Popolo? Benissimo. In ottobre Dino Alfieri, che era il ministro della cultura popolare, Galeazzo Ciano, che continuava a essere il grande supervisore del giornalismo italiano, diciamo così, informalmente, gli fanno ottenere la collaborazione a Corriere della Sera. Cioè per cui quella vicenda di una sberla colossale da parte del segretario del partito, alla fine si risolve in un vantaggio. Quindi vediamo questa storia che vede assieme ottusità staraciana, hai detto delle cose che non ci sono piaciute in una conferenza su D'Annunzio? Bene, ti tolgo la tessera del partito. E indulgenza mussoliniana, no? Alduce voleva apparire il protettore degli intellettuali, si combinano assieme in una vicenda che alla fine ha un saldo positivo per per buon tempo. Io chiudo a questo punto, potremmo dire cose analoghe su Moravia, gli indifferenti, eccetera, eccetera, ma naturalmente ho parlato, me ne scuso anche troppo e ti ringrazio della pazienza. Beh, ringraziamo il professor Berardelli per questa bella relazione, ha messo, diciamo, in evidenza uno, un aspetto cruciale di ogni regime autoritario e tendenzialmente totalitario, cioè quello del rapporto con la cultura e del ruolo degli intellettuali nel regime. Ci sarebbe ovviamente molto da dire, però passo la parola alla professoressa Alessandra Tarquini, che insegna storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell'Università di Roma, la Sapienza, si è occupata a lungo di storia della cultura nel novecento ed è diciamo tra gli studiosi che più di recente si sono occupati a fondo di Giovanni Gentile, offrendo dei contributi davvero innovativi e va ricordato tra l'altro questo suo, questa sua storia della cultura fascista che ha avuto, ha conosciuto più, più edizione. Prego Alessandra. Grazie. Allora, anche io, mi fa piacere essere qui, mi fa piacere ringraziare gli organizzatori di questa iniziativa e insomma di, anche di poter parlare di fronte a studenti di temi che sono stati oggetto di discussione e dibattito. Ascoltando il professor Berardelli avrei voluto chiudere questa relazione e raccontarvi, diciamo così, rispondere in qualche modo, raccontare una cultura fascista perché, come dirò fra breve, sono molto d'accordo su alcune cose e meno su non si sente? Così, ok. E meno su altre, in fondo gli storici, come dire, si confrontano anche dal confronto con le diverse interpretazioni, come dire, la ricerca evolve, il nostro sapere sulle cose evolve. Quindi, in realtà, io dovevo, e quello che farò, parlarvi del rapporto fra Giovanni Gentile e il fascismo e magari, appunto, poi dirò alla fine della relazione qualcosa che ha appunto a che fare più in generale con la storia della cultura fascista, con quanto conta questa vicenda della cultura fascista all'interno di un regime totalitario. Intanto, direi, non diamo per scontate cose che non è detto che tutti sappiano. Giovanni Gentile, il rapporto fra Giovanni Gentile e il regime fascista è uno dei temi principi, insomma, più importanti della storia culturale fascista perché ci aiuta a capire sia il filosofo, cioè sia la sua vicenda biografica e intellettuale, ma ci dice anche moltissimo della storia del fascismo. Ed è una storia che viene di fatto rimossa dagli storici e dagli intellettuali italiani per lungo tempo, cioè per lungo tempo non si parla di Giovanni Gentile perché Giovanni Gentile è stato fascista e perché la rimozione che cade sul fascismo colpisce i suoi esponenti più importanti. Nel 1994, quindi in teoria ieri, a Roma nel cinquantesimo anniversario della morte di Gentile si svolge un convegno organizzato e promosso dal Campidoglio. L'allora giunta Rutelli, quindi una giunta di sinistra, organizza questo convegno. Siamo nel 94, quindi siamo appunto a cinquant'anni dalla morte di Giovanni Gentile. Prima di allora grandi iniziative di quella, come dire, analoghe di quella portata non ce ne sono perché appunto Gentile non si studia e perché non si studia perché appunto è un fascista. Stiamo parlando del più importante filosofo del novecento italiano insieme con Benedetto Croce, quindi stiamo parlando di che cosa? Della difficoltà di sedersi a tavolino e di chiedersi come mai il più grande filosofo italiano del novecento insieme con Benedetto Croce è fascista? Porsi questa domanda significa cercare di rispondere a tante altre cose ed è una domanda che la cultura italiana fa molta fatica appunto a porsi e quindi tanto più a rispondere. Direi che fino ad allora, fino adesso citavo questo convegno del 94, ma le visioni più importanti, le interpretazioni più importanti del rapporto fra Gentile e il fascismo, che significa poi anche molte altre cose, significa come si considera la cultura fascista, sono le interpretazioni di Eugenio Garen e di Norberto Bobbio, che forse vi dicono poco, ma per gli storici sono importanti perché hanno una, non solo per quello che scrivono questi studiosi, ma per la capacità di queste interpretazioni di passare nel dibattito pubblico. Ora quello che scrivono gli storici non interessa a nessuno, cioè interessa a noi che lo scriviamo, ma a volte le interpretazioni di un fenomeno passano nella discussione pubblica, nel dibattito pubblico, fanno cultura. Allora, Eugenio Garen, citavo, Eugenio Garen è un autorevole storico del pensiero, storico delle dottrine politiche, storico della filosofia, lo scrive nel 55 e lo ripete nel corso della sua lunga produzione, che cosa sostiene? Che Gentile non è un vero fascista, perché Gentile di fatto aderisce sì al fascismo, quasi non rendendosi conto di che cosa sta facendo, non rendendosi conto della strada che il fascismo prenderà, che è una strada, secondo Eugenio Garen, di fatto nazionalista e cattolica. Quindi siccome Gentile non è un cattolico, si oppone al concordato nel 1929, allora di fatto Gentile non solo non è un vero fascista, ma quasi è, alcuni sostenevano, la sentinella della libertà dentro l'enciclopedia Treccani. Il professor Berardelli ricordava appunto l'enciclopedia italiana e tante iniziative, istituzioni fasciste, nelle quali, come cercherò un po' di dire, Gentile ebbe un ruolo fondamentale. Qual è l'idea? È un'idea del fascismo, cioè Garen ci sta dicendo Gentile non è fascista, perché? Perché in fondo il fascismo non ha dei veri importanti intellettuali e quando li ha, di fatto, sono dei nazionalisti e dei cattolici. Quindi è un regime reazionario. Questa idea è un'idea che Garen prende più o meno così com'è, dalle elezioni sul fascismo del 1935 di Palmino Togliari. Cioè, secondo i comunisti, di fatto, il fascismo non ha una cultura perché la prende a prestito dal nazionalismo e dai cattolici. Questa visione, ve la faccio breve perché appunto non voglio parlare più del tempo che mi viene assegnato, questa visione diventa fondamentale, ripeto, non soltanto per Garen, per tre storici, quattro storici, dieci storici, è una visione del fascismo. Il fascismo non ha una sua originalità, specificità, autonomia. È appunto un coacervo, e questa è, ripeto, l'interpretazione dominante degli intellettuali italiani. Il fascismo è un coacervo di cose, dentro si può fare tutto, perché in fondo ci sono i futuristi, ci sono i cattolici, c'è Bottai, c'è Ugo Spirito, e quindi in fondo è, lo dice in tempi più recenti, un altro storico di sinistra, si chiama Sergio Luzzatto, è un bazar. Allora, è un bazar vuol dire, che vuol dire? Non c'è, non è in effetti così interessante. Che cosa dobbiamo dire di un bazar? C'è di tutto, sì, in fondo, sì, è vero, è vero, è appunto, l'abbiamo appena ricordato, è una dittatura, ma in fondo, all'interno di una dittatura, si può dire tutto il contrario di tutto. Ecco, questo non è così. Non è esattamente così. Non è vero che in una dittatura, appunto, si può dire, ma ovviamente su questo siamo d'accordo, tutto è il contrario di tutto, e non è vero che il fascismo e la sua cultura e la sua ideologia sono un bazar. perché questa interpretazione diventa così dominante? Ci arriverò dopo, questa domanda risponderò dopo. Intanto vi dico che la risposta, dal punto di vista degli studi più importante a tutto questo, viene data da Augusto del Noce, che è un filosofo cattolico, che in una biografia di Giovanni Gentile sostiene la tesi contraria a quella di Garena, e dice no no, attenzione, Giovanni Gentile non solo è fascista, ma è il più fascista, è l'ideologo del regime fascista. E perché l'ideologo del regime fascista? Perché dice Augusto del Noce, e io sono d'accordo con lui, è l'autore di una filosofia che aspira ad essere una religione politica. E dunque l'incontro, secondo del Noce, fra Giovanni Gentile e Benito Mussolini, non è un incontro casuale, non è soltanto un incontro strumentale, è un incontro, diciamo così, decisivo, perché i due condividono, secondo del Noce, una, direi, una modalità di fare politica, di pensare alla trasformazione dell'Italia. Secondo del Noce, la filosofia di Gentile e il fascismo, e questa è anche una grande intuizione confermata, io credo, dagli storici, sono le espressioni della modernità. Il fascismo non è, come pensano Garen e tanti altri, un fenomeno reazionario, ma è un fenomeno moderno. Questo perché, perché tendenzialmente la cultura, diciamo così, di sinistra tende a pensare che moderno significhi positivo, e quindi se i fascisti sono nostri nemici, noi siamo moderni, i fascisti sono reazionari. Ecco, non è esattamente così. Del Noce ci dice, guardate, esiste una modernità fascista, e quindi non è che ve la cavate pensando appunto di rimuovere un fenomeno perché in fondo non vi è piaciuto ed è un vostro nemico politico. Il libro di Del Noce a sua volta viene molto criticato, da un altro filosofo che si chiama Gennaro Sasso, perché qui la critica è una critica, la critica di Sasso al libro, alla biografia intellettuale di Del Noce, a questo libro di, di, su Giovanni Gentile degli anni 90, qui la critica è, non è vero, cioè è vero che Gentile è un fascista, ma non è vero che il suo pensiero, il suo pensiero filosofico, l'elaborazione filosofica a cui arriva, questo non è vero che è fascista, perché, dice Sasso, una filosofia non è né fascista né non fascista, è una filosofia. L'accusa è quella di culturalizzare Gentile. Allora, Sasso ci dice, guardate che il pensiero, l'attualismo nasce ben prima dell'avvento del fascismo, quindi non si può immaginare che Giovanni Gentile, che è appunto il più importante filosofo italiano, abbia pensato una filosofia fascista. Ora, il problema qual è? Che se anche questo è vero, io credo che sia molto vero, che su questo Sasso dice una, come dire, sottolinea un fatto importante, è vero anche che noi dovremmo, se facciamo gli storici almeno, e noi qui facciamo un po', ci proviamo, è ascoltare la voce del testimone, la voce del testimone è una voce fascista, allora se noi avessimo chiesto a Giovanni Gentile, ma scusi lei è fascista, Gentile ci avrebbe detto sicuramente di sì. Allora, che rapporto c'è tra una filosofia e una politica? Quanto, come sono in relazione queste due cose? Io credo che per rispondere ci vogliano gli storici, non perché i filosofi non siano importanti, ma perché alla domanda qual è il rapporto fra Gentile e il fascismo, noi cerchiamo una risposta da storici, quindi andiamo a vedere cosa ha fatto, cosa ha detto, cosa hanno detto gli altri, cosa dicono i fascisti per l'appunto di Gentile e cosa dicono anche i gentiliani perché, lo dico appunto ai più giovani, Gentile non aderisce da solo al fascismo, porta con sé un gruppo di collaboratori e di allievi che si comporta come una corrente all'interno del fascismo, che quindi costruisce rapporti, relazioni, che vuole contare, quindi Gentile e i suoi allievi aderiscono al fascismo nel 1922 convinti di portare avanti, di costruire una, come dire, un mondo, una battaglia. Perché? Perché nel 1922 sono convinti che Mussolini e il fascismo porteranno a termine un processo iniziato durante il risorgimento e non compiuto. E cioè significa, significa pensare che siccome l'Italia, a differenza di altre nazioni moderne, non ha la coscienza di essere una nazione, il fascismo potrà appunto portare a compimento questo processo. Processo iniziato con la prima guerra mondiale e con tutta la riflessione, la battaglia sull'interventismo del paese nella guerra. Ora, qual è il problema? Il problema è che diventare ministro di un governo di coalizione è una cosa, diventare l'ideologo del regime fascista è un'altra. Allora, da quanto ho? Ancora 20 minuti? 20 minuti. Ok, allora, che cosa significa essere l'ideologo di un regime fascista? Alcune cose le ricordava appunto il professor Berardelli, il manifesto degli intellettuali fascisti, il ruolo nell'enciclopedia italiana, e non solo questo, ma Gentile diventa il più importante nel senso politico della parola potente, intellettuale d'Italia. Cioè, è quello che raccoglie il maggior numero di incarichi. L'Istituto Nazionale Fascista di Cultura, ovviamente, cioè che è l'Istituto di Cultura del Partito Nazionale Fascista. Cioè, sottolineo questo perché un conto ancora è avere incarichi governativi, ministro della pubblica istruzione. Un conto è avere incarichi di partito. Noi stiamo parlando di un signore che prende la testa del Partito Nazionale Fascista e che in mille occasioni pubbliche spiega che cos'è il fascismo. Quindi, per esempio, tornando alle interpretazioni di, no? Tornando a Sasso che dice ma quella filosofia non è fascista. Forse la sua filosofia non è fascista, lui sì. Perché lo dichiara, perché lo spiega. E che cosa dice, appunto, di questo fascismo? I discorsi sono moltissimi, soprattutto nella seconda parte degli anni venti. Ma un testo che mi sembra più importante di altri è il testo che viene pubblicato dall'Enciclopedia Italiana, volume 14, 1932, che è La Voce sul Fascismo, perché viene scritta con Benito Mussolini. Apro una parentesi. La voce viene scritta nel 1932. Per tutti gli anni, cioè dal 1922 al 32, per questi primi dieci anni di fascismo, Gentile subisce le critiche di molti fascisti. Cioè, come abbiamo appena ascoltato, il fascismo non è un blocco unitario, non è una cosa uguale a se stessa, non è un monolite e quindi esiste una parte importante di fascismo, di fascisti, che non riconoscono Gentile come uno di loro. Perché lo accusano di essere un liberale di destra, cosa diversa dall'essere fascista, un liberale di destra prestato alla politica e di essere di fatto, lui e molti altri, un opportunista, uno che si è buttato sul famoso carro dei vincitori. Tutte le volte che emergono polemiche, anche molto aspre, molto dure contro Gentile, e qui è interessante notare la risposta di Gentile e dei suoi, a partire dalla omicidio, praticamente omicidio di Giacomo Matteotti. Quando alcuni i fiancheggiatori, abbiamo ascoltato a parlare di Benedetto Croce, no, Benedetto Croce in un primo tempo, come la maggior parte degli intellettuali italiani, guarda con simpatia a questo movimento che sembrerebbe riuscire a riportare il paese nell'ordine, quindi contro i rossi, contro le agitazioni sociali, eccetera. Nel 1924-25, in quel passaggio lì, questa cosa un po' cambia, perché molti cominciano, e Croce è il più importante fra loro, a prendere le distanze. Gentile e Gentile, non solo non prendono le distanze, ma al contrario, sottolineano la differenza tra essere gentiliani ed essere dei fiancheggiatori. Lo fa Ugo Spirito molto chiaramente su alcune riviste, sostenendo la necessità di rimanere compatti intorno al fascismo, nel passaggio Matteotti, che non è un passaggio banale, cioè viene rapito e ucciso il segretario di un partito che non era un grande partito, ma rappresentava un mondo. Cioè, cosa sto dicendo? Che il volto violento e totalitario del regime fascista è sempre più chiaro, è sempre più, come dire, manifesto, gioco di parole. Eppure lì i gentiliani e Gentile, ripeto, non solo non prendono le distanze. Nel 1924 Gentile si dimette dal Ministero della Pubblica Istruzione, indica a Mussolini casati come suo sostituto, ma non è che prende le distanze dal fascismo, non lo farà mai, manterrà, da questo punto di vista possiamo dire una coerenza, come dire, fino alla fine morirà per essere stato fascista, no? Ma questo non significa che, come pensavano Garena e altri, non si renda conto, si rende perfettamente conto di dov'è, è che è fascista. A volte abbiamo paura di essere semplici, no? Perché ci sembra poi che quando diciamo no, ma in realtà è tutto molto complicato, e a volte no. Cioè, semplice non vuol dire banale. Si può essere semplici e non banali, no? Quindi Gentile è fascista, nel senso che sente, che crede in questo progetto politico al quale per l'appunto dedica la vita. E dicevo, passaggio 25, nel 26 viene attaccato duramente da un signore che si chiamava Telesio Interlandi, che definisce l'enciclopedia italiana in termini terribili. Cioè, scrive, dice, questa è un'operazione appunto da liberali, noi vogliamo un'enciclopedia fascista. Apro la seconda parentesi, poi torno all'enciclopedia, alla voce fascismo sull'enciclopedia italiana. Apro una parentesi. Il rapporto tra politica e cultura nel regime fascista non è il rapporto tra politica e cultura che noi siamo abituati ad immaginare e nell'Italia liberale e, per fortuna, nel dopoguerra. Che significa? Che per i fascisti politica e cultura sono in una simbiosi, come dire, che rappresenta in qualche modo una novità rispetto ad una concezione liberale, che è quella che noi, ripeto, per fortuna abbiamo, del rapporto tra politica e cultura. L'ho detto con torto, in termini più chiari, la cultura serve gli obiettivi della politica. Non esiste una concezione dell'intellettuale e della cultura in generale autonoma dalla politica. Architetti, letterati, filosofi, chi più ne ha, più nemmeno, scienziati, demografi contribuiscono alla costruzione di un regime totalitario, sono mobilitati e superfinanziati per raggiungere gli obiettivi del regime. Cioè, l'intellettuale pensoso che passeggia nei prati è un'immagine da Italia liberale che i fascisti contestano. L'intellettuale fa politica, è un intellettuale militante. ed è, tra l'altro, una concezione che resta nei principali partiti di massa del secondo dopoguerra, pensate al rapporto tra intellettuali e politica nel partito comunista. Questa cosa viene introdotta in Italia dai fascisti, che, ripeto, mobilitano gli intellettuali, che li finanziano, ma non è che li finanziano perché sono magnanimi, o non è che li finanziano, come dire, a gratis, li finanziano perché servono ad un obiettivo. Quindi, sì, è vero, il Minculpop nasce nel 1937, ma la fascistizzazione della cultura inizia nel 22. Fascistizzazione della cultura e della società italiana significa mobilitazione, significa impegno costante per il raggiungimento di un fine che è politico. Non è siamo qui e noi vi controlliamo. No, siamo qui, noi vi controlliamo e voi scrivete quello che diciamo noi. Perché il contenuto politico di questi intellettuali, da Gentile, ma dagli architetti, agli scienziati, non è un contributo politico negoziabile, è il contenuto politico di una dittatura totalitaria. Allora, dicevo nel 26, Gentile e Gentile, ho torto collo perché poi vedremo che le cose sono appunto un po' diverse da un fascismo ortodosso, ma ci arrivo dopo, Gentile fa parte di questo mondo, ne è uno degli esponenti più importanti. Quando entra in conflitto con i fascisti, cosa che gli accade sempre nei 22 anni di fascismo, non solo non prende mai le distanze, ma recupera come accade in politica. In politica non è che in un partito, pensate a un grande partito di massa, pensate alla democrazia cristiana, al partito comunista, ai socialisti. Non è che se io la penso in modo diverso dal mio collega di partito, allora io non sono più comunista o democristiano. Un grande partito di massa è qualche cosa che, come dire, tiene insieme varie persone, culture ed anime con una cornice evidentemente, che quelli sono democristiani, quelli sono comunisti e quelli sono fascisti. Allora, perché dico questo? Perché per esempio negli anni 30, quando il potere di Gentile è minore, è oggettivamente minore, dopo il concordato e attraverso, io direi, l'accelerazione totalitaria del regime fascista, il ruolo del filosofo nel regime è meno forte, meno evidente di come è stato negli anni 20, anche perché molti giovani suoi allievi e molti collaboratori si spostano. E si spostano e direi che, la dico un po' rozza e sintetica, ma insomma cercano e trovano Giuseppe Bottai. Cioè Bottai alla fine, la seconda metà degli anni 20, o come dire, vorrebbe e in parte riesce a diventare il nuovo Gentile. Cioè il politico e l'intellettuale, no, è un politico, non è un intellettuale, ma è anche un uomo certamente di cultura che vuole aggregare intorno a sé quegli studiosi, quei giovani, quelli che aveva in qualche modo avvicinato Gentile nella prima parte della storia del regime fascista. Ecco, anche quando questo accade, ripeto, Gentile comunque ha un ruolo e tanto è vero che nel 32 Mussolini con Gentile scrive questo testo, perché ero partita da lì, perché questo testo assomiglia moltissimo ad un manifesto ideologico. Anche questa è stata una grande polemica, no? Il fascismo non ha un'ideologia, bontà loro, perché non c'è un analogo, perché non possiamo, se lo confrontiamo con il marxismo e, oppure ancora, se lo confrontiamo con quello che accade durante l'Italia nazista, di fatto i fascisti non hanno delle idee, che ovviamente non solo è falso, ma risponde a questa esigenza di considerare il fascismo qualcosa di inconsistente. Non c'è, no? Un po', non c'è, oppure è possibile che al suo interno ci sia tutto il suo contrario. Quando io dico che di una cosa si può dire tutto il suo contrario, sto dicendo nulla. Perché sì, è buono, ma è anche cattivo, appunto, è realista, ma è anche idealista, è quello il suo contrario, e quindi uno si chiede, no? E quindi che vogliono questi fascisti? Ecco, ce lo dice Gentile in Dottrina del fascismo del 32, che è un testo ufficiale. Allora, in questo testo si dice che il fascismo, ve lo leggo perché sono tre righe, il fascismo è una concezione religiosa, in cui l'uomo è veduto nel suo immanente rapporto con una legge superiore, con una volontà oggettiva che trascende l'individuo particolare e lo rende parte consapevole di una società spirituale. Poi va avanti e dice che il mito principale della dottrina del fascismo è il mito dello Stato. Mito dello Stato significa che nella visione politica di Gentile non esiste un individuo fuori dallo Stato. Fuori dallo Stato significa che tutte le articolazioni della società, dagli individui ai gruppi e quanto quello che volete, esistono perché esiste uno Stato che, come dire, le controlla, le governa, di cui fanno parte. Questo Stato in interiore omine, dice, no? Cioè dentro l'uomo, quindi non è una visione contrattualista, inter homines, non c'è un contratto sociale, non c'è un patto, c'è uno Stato che viene, come dire, descritto, vissuto come una realtà spirituale, come una religione per l'appunto politica. Perché questo è importante? Perché il contributo è un contributo che viene ripetuto fino appunto alla morte di Gentile. E lo dicevo anche negli anni trenta, quando di fatto il suo ruolo è minore. Uno dei momenti più difficili nel 1937 è di fatto la rottura con il Partito Nazionale Fascista che provoca le dimissioni di Gentile dall'Istituto Nazionale Fascista di Cultura. Allora qui uno dice, beh, quindi qui c'è proprio una vera e propria rottura. Gentile scrive a Codignola, mi pare, so bene che la gente mormora della disgrazia di Gentile, tanto meglio. Io voglio augurarmi, dicem... Secondo me la censura... Secondo me... Vabbè, comunque... Ecco, qui c'è un controllo fascista sui media, cioè sul mio intervento. Gentile dice, so bene che la gente mormora della disgrazia Gentile, mi potrà dispiacere se questo istituto da me creato divenisse uno strumento di tortura per gli italiani, ma io voglio augurarmi che questo non avvenga, so di avere fatto il mio dovere e poi va avanti. 37. Allora, qui effettivamente c'è una differenza. La differenza qual è? Che come dicevo prima, questo rapporto tra politica e cultura. Per i fascisti il rapporto tra politica e cultura era quello che cercavo di descrivere all'inizio, cioè un rapporto di totale simbiosi. Su questo si consuma una differenza, c'è una differenza, perché Gentile crede ancora nella autonomia della cultura e quindi, pur essendo convintamente parte di questo progetto e di questa prassi politica, entra appunto in dissonanza, in conflitto con molti stessi suoi allievi che nella seconda metà degli anni trenta hanno, spingono su questa accelerazione totalitaria, cioè sono più fascisti di lui. Quindi è vero che Gentile, che è un uomo nato in un'altra epoca, che ha elaborato la riforma della scuola con croce all'inizio del secolo, che non si interessa di fascismo fino al 1922, è vero che mantiene una sua differenza rispetto a molti fascisti. E qui la domanda allora è cosa conta di più? Quello che avrei, la relazione che avrei fatto se non avessi parlato di Gentile, perfetto, e quindi sulla cultura fascista, è un po', diciamo, il senso è un po' questo, ma vale sia per Gentile che per la cultura fascista. Gli storici cercano di studiare, di ricostruire il passato e di orientarsi evidentemente all'interno di problemi, di fatti umani collettivi, dice Mark Bloc. Allora, che significa? Significa che ad un certo punto ci interroghiamo su cosa conta di più, perché la realtà non è mai unilineare, non è mai unitaria, non è mai univoca, è fatta evidentemente di tante cose. Allora, all'interno della cultura fascista, e vale per Gentile e vale per tutti, cosa conta di più? La sfumatura, la differenza, o il fatto che questi intellettuali e uno di questo calibro e di questa portata è più importante degli altri, forse, condividono un progetto e una prassi politica? Cosa conta di più? Prima domanda, io credo che conti di più il fatto che condividono un'esperienza umana, politica, che è la loro storia. Cioè, è più importante che ciò che divide, mettiamo, Gentile da Bottai, o ciò che tiene insieme Bottai e Gentile? Io credo è più importante ciò che tiene insieme Bottai e Gentile. L'altra questione, quanto contano queste differenze in termini culturali? Si può parlare di una cultura fascista? Si può parlare di un'ideologia fascista? Io credo assolutamente di sì. Credo che sia possibile delineare un confine tra ciò che è fascista e ciò che non lo è, perché altrimenti è come di notte quando tutte le vacche sono nere, non possiamo più dire nulla. Allora, che cos'è fascista? Gentile certamente lo è, perché è il teorico di una ideologia che si basa sul mito dello Stato e su molti altri miti. Veniva ricordato il mito di Roma, potremmo parlare del mito dell'uomo nuovo, dello stesso mito di Mussolini e in ogni caso troveremmo un Giovanni Gentile pronto a collaborare come fa fino al 1944 in un'Italia divisa dalla guerra civile. Giovanni Gentile sceglie la Repubblica Sociale Italiana, è uno degli esponenti più importanti, pronuncia un noto discorso in Campidoglio nel 1943 che è un discorso di pacificazione che viene di fatto poi attaccato, certo arrivare nel momento in cui si parla del discorso in Campidoglio e della pacificazione è simbolico. No, non mi ha, non mi ha sentita. Eh ci ho detto e scrive anche Giappone Guerriero in sostegno del Giappone e della Germania nazional socialista, cioè con un appello che è un appello di un uomo della Repubblica Sociale Italiana. Quindi questo è fino alla fine e forse ci sarà modo poi di parlarne dopo gli interventi degli altri, è uno che come pochissimi, pochissimi, paga con la vita una scelta e non lo fa soltanto perché è un uomo coerente, lo fa perché ci crede, perché ci crede fino alla fine. Questa è una, è un'eccezione, non solo perché per fortuna non morirono tutti uccisi dai dai partigiani, è quello che accade a lui, ma è un'eccezione perché l'Italia, lo accennava anche il professor Berardelli, l'Italia del dopo è un'Italia che si dimentica, che non vuole sapere, che prende le distanze dal proprio essere stata fascista e che in fondo non si pone il problema, non risponde né individualmente alla propria coscienza e né pubblicamente al come era stato possibile che fino a cinque minuti prima era fascista. Grazie. Molte grazie Alessandro per questa bellissima relazione, dimostrazione di una conoscenza sedimentata del tema. Intanto ci ha raggiunto il presidente della Fondazione Ugo Spirito Renzo De Felice, il professor Giuseppe Parlato, che è magna parso in tutto ciò che stiamo vivendo in questo convegno, diciamo che è uno del principale promotore di questo evento. Bene, allora direi di chiamare esatto, chiamerei Nicola De Via e Danilo Breschi al tavolo. Grazie. 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 Vabbè, iniziamo. Bene, io continuerei in questo nostro percorso nella cultura fascista, diamo la parola a Nicola Delia, che è uno studioso di Giuseppe Bottai, è autore comunque anche di altri volumi, Democrazia e Modello Inglese, non solo su Bernstein, e poi un lavoro su Delio Cantimori e la cultura politica tedesca. Oggi si occupa appunto Giuseppe Bottai, le leggi razziali e i rapporti italo-tedeschi. Prego. Grazie. Io voglio innanzitutto ringraziare gli organizzatori per l'infinito, che dà nuovamente la possibilità di partecipare ad un convegno dopo un'assenza di otto anni. Mi è stato proposto di trattare la figura di Giuseppe Bottai, che è stata già evocata più volte negli interventi precedenti, dal professor Berardelli e dalla professorissa Tarquini. Bottai fu un protagonista di primo piano della politica culturale fascista. Basterà ricordare che il suo nome è legato a importanti riviste come Critica fascista e Primato, da lui fondate e dirette, e alla prestigiosa Scuola Pisana di Scienze Corporative, di cui fu direttore tra il 1929 e il 1935. A differenza di altri intellettuali fascisti, Bottai ebbe anche un rilevante peso politico, che si protrasse per quasi tutto il ventennio. Nel 1926 divenne sottosegretario al Ministero delle Corporazioni e tre anni dopo assunse la guida dello stesso Di Castero fino al 1932. Nel periodo 1933-34 fu presidente dell'Inps, dall'inizio del 1935 ricoprì la carica di governatore di Roma fino al novembre 1936, quando fu nominato Ministro dell'Educazione Nazionale, un ufficio che mantenne fino al febbraio 1943. Bottai è stato anche un personaggio controverso, che ha suscitato vivaci dibattiti e polemiche. Sulla sua concezione del fascismo e sul ruolo da lui svolto in seno al regime mussolimiano, sono state date varie interpretazioni, alcune delle quali fortemente contrastanti tra loro. Ad esempio, Giordano Bruno Guerri ha voluto accreditare l'immagine di un Bottai fautore di un fascismo diverso e impegnato a favorire un processo di liberalizzazione del sistema politico attraverso l'apertura di spazi di discussione critica al suo interno. Soprattutto con le sue iniziative culturali, egli avrebbe avuto il merito di contribuire a suscitare energie intellettuali che sarebbero poi confluite nell'antifascismo militante. D'altro canto, Emilio Gentile ha sostenuto che la politica di Bottai fu omologa a quella del regime, nel senso che anche egli avrebbe mirato alla radicale fascistizzazione della società italiana e alla costruzione dello Stato totalitario. A partire dall'ultimo scorcio del Novecento, con l'avvento di una nuova fase di studi sul fascismo che ha posto l'accento sulla sua politica razzista, culminata nelle famigerate leggi del 1938, le discussioni intorno alla figura di Bottai si sono concentrate sulla sua posizione di fronte ai provvedimenti antisemiti che egli aveva applicato con risoluta determinazione nella sua funzione di ministro dell'educazione nazionale. Tali polemiche non sono rimaste circoscritte all'ambito accademico, ma hanno trascimato nella dimensione pubblica. Valla pena di ricordare in proposito l'indignata reazione di protesta che si scatenò a seguito della decisione poi ritrattata dell'Aggiunta del Comune di Roma, guidata da Francesco Rutelli, di intitolare una strada a Bottai nel settembre 1995. È fuor di dubbio che la partecipazione di Bottai alla campagna razziale sia diventato un tema particolarmente sensibile, nel mio intervento cercherò di affrontarlo mettendolo in relazione al problema dei rapporti di Bottai con la Germania nazista dopo la costituzione dell'asse Roma-Berlino. Si tratta di due aspetti tra loro collegati che sollevano i medesimi interrogativi. La denuncia delle responsabilità di Bottai nella politica razzista del regime fascista lascia aperta la questione delle motivazioni di fondo che spinsero il gerarca ad appoggiare la svolta antisemita di Mussolini. lo fece solo per opportunismo o perché costretto a piegarsi alla ragione di Stato, come suggeriscono i suoi interpreti, oppure la partecipazione alla campagna razziale è il segno della sua adesione al progetto totalitario del fascismo. Analogamente, il consenso dato da Bottai all'alleanza italo-tedesca è da ricondurre ad un mero calcolo politico? È noto che Bottai fu un deciso sostenitore delle leggi razziali. Galeazzo Ciano annota nel suo diario che nella seduta del Gran Consiglio del 6 ottobre 1938 difese i provvedimenti discriminatori con una intransigenza che lo lasciò svalordito. Del Pari, nella veste ministeriale, ne fu un esecutore oltremodo zelante, facendo sì che venissero applicati rigorosamente nel mondo della scuola e dell'università. Ma ben prima che gli atti legislativi entrassero in vigore, Bottai diede prova della sua determinazione a eliminare qualsiasi traccia di ebraismo nel settore di competenza del suo ministero con una raffica di disposizioni amministrative. Tra queste va la pena di ricordare almeno le circolari del gennaio-febbraio 1938 con le quali chiedeva ai rettori di accertare il numero degli studenti e dei professori ebrei, italiani e stranieri. Le circolari dell'agosto 1938 con le quali vietava agli ebrei stranieri l'iscrizione alle scuole di ogni ordine grado, il conferimento di incarichi o supprenze a docenti ebrei e l'adozione di libri di testo di autori ebrei, sollecitava la diffusione della neonata rivista alla difesa della razza, disponeva un censimento razziale di tutto il personale dipendente dal Ministero dell'Educazione Nazionale. Anche nel periodo successivo al varo della legislazione razziale, l'azione persecutoria antisemita esercitata da Bottai attraverso le direttive ministeriali proseguì inesorabile. Analizzandola puntualmente, Michele Sarfatti è giunto alla conclusione che Bottai fu un deciso propugnatore di una realizzazione secca, totale e immediata. Se non ci sono dubbi sulla convinta adesione di Bottai alla svolta razzista del fascismo italiano, più controverse appaiono le ragioni che lo indussero a compiere una simile scelta. Infatti, prima del 1938, il Gerarca non si era mai pronunciato in favore di una politica antisemita. È noto altresì che alcuni dei suoi migliori amici come Enrico Rocca e Gino Arias erano ebrei per non parlare del rapporto di grande cordialità che legava tutta la sua famiglia a Margherita Sarfatti. Ed ebreo era anche il mecenate di critica fascista Gino Modigliani. Alcuni interpreti come Giordano Bruno Guerri e Alexander De Gran tendono a spiegare la posizione di Bottai di fronte alle leggi razziali facendo ricorso alla categoria dell'opportunismo, ossia chiamando in causa la sua preoccupazione di non essere emarginato politicamente e di dimostrare la sua autodossia. Renzo De Felice, assai meno benevolo, lo accusa addirittura di servivismo. L'appoggio di Bottai alla campagna antisemita è stato invece messo in relazione da Meir Michaelis con l'allineamento dell'Italia alla Germania nazista. A detta dello storico israeliano, il Gerarca sentiva fortemente il peso della ragione di Stato, capiva che una volta imboccata la strada dell'alleanza con Hitler, un alto esponente del regime fascista non poteva non tenerne conto. Nello stesso tempo, Michaelis ha sostenuto sulla base di alcuni documenti di parte tedesca che Bottai nella sua funzione di ministro si trovava sotto una notevole pressione per via di voci che circolavano negli ambienti nazionalsocialisti tesi a screditarlo dipingendolo come un oppositore della politica razziale o insinuando una sua presunta origine ebraica. Simili sospetti sono stati messi in luce anche da Jens Petersen a proposito della vicenda dell'accordo culturale italo-tedesco. Bottai avrebbe dovuto firmare tale intesa insieme al ministro del Reich per la scienza, l'educazione e la cultura, Bernard Rust, il 28 ottobre 1938 in occasione della ricorrenza della marcia su Roma. Ma Hitler negò al rappresentante del governo tedesco l'autorizzazione a recarsi in Italia essendogli stato riferito che il ministro Bottai fosse ebreo quasi e sulla base della nuova legislazione razziale fascista dovesse quanto prima abbandonare la politica attiva. Alla fine l'incidente fu superato ma quando si giunse alla firma dell'accordo il 23 novembre i sottoscrittori furono il ministro degli esteri Ciano in rappresentanza dell'Italia e l'ambasciatore tedesco a Roma Hans-Georg von Mackensen come delegato del Reich. Bottai fu presente ma né Rust né nessun altro rappresentante del suo ministero presero parte all'evento. Michaelis è convinto che anche questa vicenda abbia condizionato il comportamento di Bottai nella campagna razziale. Giova tuttavia segnalare altri documenti sempre di parte tedesca conservati presso l'archivio politico del ministero degli esteri di Berlino che gettano una luce diversa sull'atteggiamento dei vertici nazionalsocialisti nei confronti di Bottai soprattutto da alcune comunicazioni intercorse tra il ministero degli esteri del Reich e l'ambasciata tedesca a Roma emerge chiaramente la volontà delle autorità tedesche di ricucire i rapporti con il ministro italiano dell'educazione nazionale già che questi mostrava un particolare interesse per i progetti culturali tedeschi in Italia. Convinti della necessità di mettere a tacere i pettegolezzi che circolavano sul suo conto gli altri funzionari del di Castero guidati da Joachim von Ribbentrop esprimevano altresì l'auspicio che fosse proprio Bottai a firmare l'accordo culturale italo-tedesco. Si tratta di testimonianze da cui difficilmente potrebbe desumersi l'intenzione di screditare Bottai. Va evidenziato piuttosto lo sforzo di evitare di perdere un prezioso interlocutore nel campo della politica culturale. Infatti nella sua veste di ministro dell'educazione nazionale Bottai si adoperò con notevole impegno per rafforzare le relazioni culturali italo-tedesche e dopo il 1938 presi a considerare il razzismo come un potente fattore di coesione tra le potenze dell'asse. A tal proposito va la pena disoffermarsi sulla conferenza dal titolo Principi fondamentali della riforma fascista della scuola tenuta a Roma nella sede del Kaiserville Institut für Kunst und Kultur Wissenschaft che sarebbe la ex biblioteca erziana il 2 giugno 1939 dunque pochi giorni dopo la stipula del patto d'acciaio. Qui Bottai sottolineava che il regime italiano e quello tedesco si incontravano perfettamente laddove si definivano i valori a cui doveva ispirarsi la cultura del popolo che erano rispettivamente i valori eterni della propria razza e della propria civiltà e degno di nota che in tale occasione Bottai citò testualmente le parole di Mein Kampf con le quali Hitler aveva esaltato il valore dello studio dell'antichità e della storia romana in particolare. Il rapporto annuale del Kaiser Wilhelm , Institut für Kunst und Kulturwissenschaft relativo al 1940-41 suggerisce che Bottai era tutt'altro che riluttante a collaborare con i rappresentanti dell'alleato tedesco nell'ambito della politica razziale. Il direttore Werner Oppenstedt storico dell'arte ma soprattutto uomo di collegamento tra il partito nazionalsocialista e quello fascista riferiva di essere stato ricevuto da Bottai in occasione di una visita a Roma del capo dell'ufficio razza del partito nazionalsocialista Walter Gross. Durante l'incontro il ministro italiano dell'educazione nazionale aveva informato i suoi ospiti tedeschi che d'intesa con il suo omologo Rust aveva disposto una revisione di tutti i testi scolastici di storia e precisamente riguardo a tutte le informazioni presenti in essi sui rapporti tra i germani e i romani dell'antichità il rapporto così proseguiva Bottai ha altresì dichiarato di aver eliminato una volta per tutte l'uso della parola barbari per i germani dal vocabolario ufficialmente autorizzato nell'insegnamento scolastico anche l'intenzione espressa dall'eccellenza Bottai di redigere addirittura una carta della razza ci sembra essere di notevole importanza alla luce dei documenti suscitati è difficile negare che Bottai abbia appoggiato l'alleanza italo-tedesca anche nelle sue più esecrabili implicazioni razziste una questione resta però aperta il suo comportamento fu dettato solo da calcolo politico o fu influenzato anche da altri fattori per rispondere a un siffatto interrogativo può essere utile soffermarsi sulle idee politiche di fondo di Bottai in particolare sui suoi orientamenti anti-borghesi come esponente di primo piano della sinistra fascista Bottai aveva una concezione rivoluzionaria del fascismo ed era convinto che la missione primaria del regime mussoliano fosse quella di creare uno stato nuovo alternativo al sistema liberale un simile progetto nelle aspettative di Bottai avrebbe dovuto prendere la forma di un ordinamento corporativo quando nel 1934 l'attuazione del corporativismo ebbe un esito non corrispondente alle aspirazioni dei fascisti di sinistra la sua fede nella rivoluzione fascista non si spense sul finire degli anni 30 Bottai cominciò a considerare la politica razziale come un fattore in grado di riattivare nel regime uno spirito rivoluzionario e anticapitalistico molti dei suoi interventi pubblici sulla politica scolastica collegano esplicitamente l'antisemitismo la polemica antiborghese e il progetto dell'uomo nuovo fascista lanciato da Mussolini a detta di Bottai il sistema dell'istruzione doveva conformarsi alle ambizioni rivoluzionarie del fascismo spazzando via i residui della mentalità borghese per formare il nuovo italiano la scuola era chiamata a combattere una battaglia di civiltà espuggendo da sé qualsiasi elemento razzialmente estraneo in essa non poteva esservi spazio per gli ebrei che Bottai vedeva inestricabilmente legati al mondo del capitalismo speculatore la prospettiva antiborghese influenzò anche la posizione di Bottai di fronte all'alleanza italo-tedesca agli occhi del gerarca i veri nemici del fascismo erano le democrazie occidentali in un rapporto inviato a Ciano nel luglio del 1940 che conteneva delle riflessioni sul nuovo ordine che sarebbe scaturito dalla vittoria militare dell'asse allora considerata certa Bottai sottolineava la necessità di superare i principi su cui era stato fondato il sistema di Versailles e che avevano sancito l'egemonia angolo-francese in Europa un simile orientamento trovò Eco a breve distanza di tempo in un editoriale di primato che così recitava ad un ordinamento europeo franco-inglese vogliamo sostituirne uno italo-tedesco questo nuovo ordine veniva presentato come una civiltà alternativa e superiore a quella delle democrazie plutocratiche e reazionarie la missione delle potenze dell'asse in guerra era quella di rigenerare la società europea corrotta dall'individualismo borghese come Bottai affermava perentoriamente in un noto articolo intitolato Interventismo della cultura del giugno 1940 muore una libertà che si era tramutata in sopraffazione di classi su classi e di nazioni su nazioni e un'altra ne nasce muore una giustizia che era la stessa iniquità fissata in leggi a favore dei potenti e dei possidenti e un'altra ne subentra e ancora nel novembre dello stesso anno sotto la suggestione delle impressionanti vittorie tedesche Bottai celebrava la rivoluzione armata che seppelliva sotto torrenti di fuoco le vestigia della ingiustizia impressa sulla terra e infamava la plutocrazia lupesca trasformazione dell'uomo affermazioni del genere dimostrano che l'entrata in guerra dell'Italia al fianco della Germania era pienamente coerente con i presupposti ideologici del fascismo di Bottai egli difficilmente avrebbe potuto dichiararsi avverso a una alleanza che perseguiva obiettivi politici e culturali in così radicale antitesi a quelli delle democrazie liberali in conclusione è lecito ritenere che il comportamento di Bottai non sia stato guidato meramente da ragioni di calcolo politico ma sia stato anche fortemente influenzato dalle sue concezioni ideologiche tanto nell'alleanza con la Germania itelleriana quanto nella svolta antisemita di Mussolini Bottai ravvisò delle opportunità per rivitalizzare il progetto rivoluzionario e antiborghese del fascismo e qui io mi fermerei grazie bene grazie Nicola per questa bella relazione e tuttavia sul primato diciamo rimane molte possibilità ancora di interperazione di questa parentesi tra l'altro una palestra nel quale si formano poi intellettuali che raggiungeranno altri lidi giovani intellettuali che passeranno al liberalismo al comunismo e in cui si nota che io ho seguito appunto perché alcuni sono poi scrittori giornalisti di risorgimento liberale e in cui si nota questa volontà di nonostante questo accostamento alla Germania nazista però di affermare un primato italiano quindi è diciamo è un tema ancora abbastanza aperto diciamo suscettibile di nuove interperazioni bene allora continuiamo nel nostro viaggio nella cultura fascista toccando ora un altro pilastro diciamo come Ugo Spirito se ne occupa Danilo Breschi Danilo Breschi è insegna storia delle dottrine politiche presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma si è occupato di tradizione liberale francese tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo rapporti tra politica filosofia e cultura nell'Italia contemporanea autore numerosi saggi monografie e ha dedicato negli anni ripetute attenzioni a Ugo Spirito e da segnalare un libro del duemilaventidue l'avvenire della globalizzazione da lui da lui curato prego Danilo grazie a Gerardo al professor Nicolosi grazie appunto alla fondazione Ugo Spirito Renzo De Felice al suo presidente al direttore quindi anche dipartimento della facoltà di scienze politiche di Siena e dell'università Marconi per aver organizzato questo convegno e aver pensato anche a me e avermi dato così l'occasione di tornare con uno dei relatori della mia tesi di dottorato nel specifico il professor parlato a conversare con adesso dall'altra parte ci sono nuove generazioni qui appunto ho discusso la mia tesi di dottorato perché appunto a Siena facoltà di scienze politiche ho conseguito tale titolo allora Ugo Spirito perché parlarne i motivi sono tanti ora magari i ragazzi più giovani non ne sapranno niente Ugo Spirito è dal punto di vista squisitamente filosofico si direbbe teoretico insieme a Guido Calogero ma Guido Calogero in qualche misura da questo punto di vista si interrompe abbastanza presto diventando poi un altrettanto brillante se non geniale scrittore politico pensatore politico e polemista mentre Spirito che nasce nel 1896 e muore nel 1979 per tutta la sua vita continua a pensare infatti questa all'avvenire della globalizzazione sono un'antologia ragionata di scritti giornalistici dell'ultimo decennio di vita di Ugo Spirito e Spirito resta un filosofo particolarmente rilevante finché è vivo tanto che alla sua morte i telegiornali lo paragonano al da poco tre anni prima se non vado errato defunto Martin Heidegger ed è nel secondo dopoguerra un po' Deus ex machina di tutta diciamo l'accademia dei filosofi non solo teoretici ma di tutti coloro che sostanzialmente vogliono fare carriera accademica Spirito è il come si dice in inglese il gatekeeper colui che apre o chiude il cancello e dà l'accesso o meno lo stesso Emanuele Severino brillantissimo geniale giovanissimo allievo di Gustavo Pontadini passa deve vuole passare da Spirito e una delle sue prime prove dopo la tesi di laurea è proprio note sul problematicismo italiano che è l'evoluzione filosofica di Spirito dopo il fascismo quindi già vi ho detto di un autore che è rilevante perché è anche in qualche modo un erede di se stesso visto oggi pomeriggio parleremo di eredità Spirito poi è interessante vorrei articolare in due fasi in due blocchi questo mio intervento da un lato un approccio più Evana Manziel più così no? gli studenti storiografico in senso stretto seguire gli eventi e le tappe del percorso che Spirito compie dal 22 al 43 perché poi non aderirà alla Repubblica Sociale Italiana e questo sicuramente è ciò che consente ai fascisti fascistissimi come è senz'altro lui di più o meno passare indenni la fase dell'epurazione un altro caso che ho studiato insieme a Gisella Longo è quello di Camillo Pellizzi analogo sotto questo profilo quindi il fascismo di Spirito va dal 22 al 43 nella seconda parte qualcosa che è sempre di tipo storiografico però lavorare più su il giudizio che lui stesso dà stante anche il titolo della mia relazione il fascismo secondo Ugo Spirito lui stesso che pensa a se stesso nel dopoguerra allora come entra Spirito nel fascismo è interessante perché lo dice lui stesso in un'intervista che rilascia Sergio Zavoli quando Sergio Zavoli nella trasmissione televisiva che cura e che esce poi viene trasmessa in sei puntate dalla RAI nel 72 diventa poi libro nel 73 celebre insomma per chi all'epoca già poteva consapevolmente vedere questa trasmissione ma celebre anche per chi poi dopo l'ha studiata nascita di una dittatura e Sergio Zavoli intervista tra gli altri la consulenza in buona parte di Renzo De Felice e Spirito eh confessa ehm questo a Zavoli io mi sono trovato essere fascista proprio nell'ambito della mentalità gentiliana e Spirito chi è fino a quel momento? Fino al 21-22 Spirito è un ragazzo di provincia che si è formato eh in un clima culturale che di solito a scuola eh non vi immaginereste voi studenti e studentesse cioè il clima che ancora è preponderante nella scuola italiana del della cosiddetta belle epoch del primo quindicennio del novecento è eh positivistica nel senso no? si studia sempre c'è l'antipositivismo c'è l'irrazionalismo niccianesimo più o meno di ritorno sì è vero ma eh a livello scolastico a livello ancora accademico è assai rilevante eh il positivismo ed è lo stesso motivo per cui sono rilevanti le le riviste dichiaratamente anti accademiche sovente di persone che volontariamente decidono di abbandonare l'università o di non farla tipo Prezzolini ed altri eh che invece vanno nel senso antipositivistico e appunto neo-idealistico quindi non è ha una formazione positivistica e sceglie di iscriversi alla più importante rilevante facoltà in Italia di eh che si ispira alla cultura positivistica ed ha la facoltà di giurisprudenza della sapienza di Roma dove insegnano tra gli altri Enrico Ferri che è stato anche segretario e personalità rilevante del partito socialista perché tutta l'ala riformista che comunque è in grossa difficoltà nel in quel momento già da alcuni anni da un decennio per certi aspetti o almeno sette otto anni quando Spirito si iscrive all'università appunto nel nel 14 il riformismo questa corrente del socialismo si ispira molto al gradualismo all'empirismo del positivismo si iscrive studia si laurea con un esito e questo è di incoraggiamento per tutti voi studenti con un esito alquanto mediocre prende 82 su 110 ed ha una profonda crisi eh esistenziale che non è diciamo dovuta soltanto a questo esito del del percorso di laurea è in qualche modo scatenato da esso ne discute con il padre e una possibile soluzione l'ultima carta da giocare è boh proviamo a fare filosofia e fa filosofia con un intento terapeutico sostanzialmente la psicanalisi come sapete si sta formando non ne avrà poi mai una grande considerazione spirito anche successivamente ancora non la conosce la filosofia è la principale cura dell'anima da sempre tanto più all'epoca e nel decidersi di scrivere a filosofia avviene l'incontro con Giovanni Gentile che è l'incontro che probabilmente è stato di Platone e di altri con Socrate cioè viene folgorato lo ascolta quando Gentile si è appena giunto a Roma e ha peraltro poi deciso varierà di lì neanche due anni di fondare il giornale critico della filosofia italiana dove leggendo il proemio che più volte Spirito successivamente menzionerà si trova tutto ciò che nella prolusione Gentile disse nell'occasione appunto dell'incontro che il giovanissimo Spirito ebbe con quello che sarà poi il suo maestro in qualche misura sarà sempre poi il suo maestro tanto da dichiarare negli ultimissimi anni della sua vita che io devo tutta Gentile io sono stato fatto interamente da Gentile bisogna fare poi una tara che ora non posso fare a questo tipo di affermazioni che denotano appunto l'ultima fase filosofica di Ugo Spirito ma indubbiamente questo debito è è reale è vero quindi decide da il primo esame proprio con Gentile ne prepara cinque in un colpo solo è molto titubante insicuro per tutto quanto era già avvenuto nella precedente percorso di studi non crede più in quello che il positivismo prometteva in qualche modo la realtà esterna non consolida il suo io traballante evidentemente se no non avrebbe questa crisi di identità il messaggio Gentiliano lo cattura perché perché fondamentalmente è il trionfo dell'antropocentrismo lo comprendete bene cosa intendo cioè poi leggiamo anche magari qualche qualche frase di spirito cioè fondamentalmente l'uomo è al centro del mondo l'uomo in quanto io è sostanzialmente legislatore e ha la possibilità di trasformare se stesso trasformando il mondo trasformando il mondo trasforma se stesso è una lettura piuttosto aderente non troppo peregrina del gentilianesimo dell'attualismo che spirito fa propria e si ritrova quindi a seguire il maestro insieme appunto come menzionava la professoressa Tarquini insieme a tanti altri lui è tra i più giovani e vengo appunto alla descrizione diciamo del fascismo di Ugo Spirito per poi vederlo secondo lui che mi capitò insomma quella poi era la tesi di laurea e poi successivamente un volume una dozzina più di anni dopo la laurea di aver scritto rileggendolo ripensandolo in effetti ci sono quattro fasi nel fascismo di spirito e la quarta fase ne può contemplare diciamo una quinta nel senso che la quarta si articola in due parti la prima fase va dal 21 al 26 22 26 21 perché ci sono i primi scritti di approssimazione cioè nel senso di approssimarsi scusate di avvicinamento di spirito sulla scia del maestro e quello che disse a Zavoli in effetti corrisponde a verità il primo periodo fase del fascismo che arriva appunto fino grosso modo al 26 compulsando carte archivio carteggio eccetera è di tipo apologetico cioè spirito non apporta a quella dottrina ufficiale del regime che è una dottrina in fieri che si va costruendo la mia idea riguardo a cultura fascista è che la domanda secca esiste una cultura fascista esiste una produzione culturale fascista immensa vastissima di un fenomeno in questo concordo con con Prezzolini che nasce con alcune parole d'orine poi se volete ci vediamo ci veniamo e le vediamo e in corso d'opera si deve strutturare sicuramente in pole position vi è Giovanni Gentile e la scelta non è casuale l'invito non è casuale ed è un è un incontro in questo io interpreto così diciamo la lettura di Del Noce è un incontro è un matrimonio vero perché entrambi si scoprono Mussolini e gentile convergenti su un'idea cioè io ho il potere Mussolini comincio a averlo dalla fine del 22 io che ho sempre desiderato far sì che la verità del mio pensiero diventi verità politica adesso ho il principe di cui io posso essere il consigliere e allora facciamo un matrimonio e questo è un matrimonio dato anche lo stile prettamente ottocentesco dal punto di vista morale di gentile che non vorrà mai spezzare non contempla il divorzio un tipo come gentile e questo nonostante attraversare una serie diciamo di traversie come ogni come ogni matrimonio che si rispetti tanto da portarlo appunto a quella fine di cui ci parlava Alessandra Tarquini e il però il fascismo spiritiano questo è curioso che entra con gentile è più mussoliniano nella sua prima fase sostanzialmente ripete ecco anche la questione ad esempio quasi dello scarto tra gentile e spirito perché probabilmente Alessandra le ricordava appunto alcuni articoli dove spirito sulla questione Matteotti è più quasi filosquadrista no di gentile perché in effetti spirito in questa fase riflette fedelmente le indicazioni date in quel periodo da colui che sempre più si consolida come duce tra appunto il 22 e il 26 l'intransigenza e l'idea di stato totale sono le nozioni chiave che in quel periodo segnano maggiormente la produzione intellettuale di spirito quindi un'adesione piena quasi pedissequa al mussolinismo che è ancora diciamo la fase appunto embrionale di un di un mussolini che cerca comunque un portavoce un traduttore come appunto è visto a distanza di 10 anni lo trova in gentile ma lì poi non si ferma ma questo è una relazione che non è mia non mi compete qui per ora mi fermo magari ne dibatteremo poi con i colleghi amici il secondo periodo del del fascismo spiritiano è caratterizzato da una ricerca di contenuti possibili da conferire alla rivoluzione fascista ecco rivoluzione è la parola chiave e vuol dire tutto e vuol dire niente ma è sostanzialmente rispondente a quell'esigenza di rovesciamento e di rivoluzione delle coscienze ancor prima e ancor più delle istituzioni verso cui poi si dirigerà nella terza fase di ugo spirito che eredita da gentile cioè l'idea è quella di un'antropogenesi passatemi il termine d'altronde siamo all'università quindi di una nascita di un uomo che in qualche modo sia diverso nel rapporto con sé e con gli altri in modo tale che si realizzi quello che è il principio cardine gentiliano in teoria politica che spirito fa proprio e che cercherà di proseguire di perseguire scusate per tutto il ventennio del suo fascismo quindi fino al 43 con diciamo dei tratti sempre più originali l'identificazione tra stato e individuo con un'idea che a mio avviso compulsando tanto forse anche troppo le carte spiritiane è debitore è debitrice questa idea di un ancora prima che di gentile insieme a gentile di russo perché tra i pochi libri compulsati nel senso segnati annotati da ugo spirito vi sono l'emilio il contratto sociale e altri in una biblioteca di libri prevalentemente intonsi perché spirito legge sì ma anche poi il filosofo in qualche modo davvero socratico che elabora in un confronto costante appunto tra positivismo vecchio e nuovo e tra nuovo idealismo anche quando poi lo abbandonerà in qualche misura tra il suo pensiero e la realtà che diviene e quindi fondamentalmente è un filosofo che partorisce idee non necessariamente confrontandosi sempre con la tradizione dei testi sacri della filosofia questo secondo periodo di ricerca vede il sodalizio con Arnaldo Volpicelli e la fondazione di una rivista molto importante che testimonia di questa vivacità di produzione culturale che avviene col fascismo per il fascismo tentando appunto di dar vita di costruire un'ideologia fascista dal regime che possa competere poi con il grande convitato di pietra che è il comunismo sovietico ancora ad avvenire il baffetto invece il baffone cioè Hitler ma c'è Stalin c'è Lenin c'è Stalin come grande diciamo deuteragonista come altro protagonista e antagonista con cui competere e nuovi studi di diritto economia e politica e nasce nel 27 già nel 26 nel saggio la scienza dell'economia Spirito sonda da idealista il campo delle scienze sociali e questo è molto interessante cioè Spirito è l'attualista attualista attualismo è la filosofia di Gentile la teoria dell'atto puro di sostanzialmente di un io che è fattivo della realtà ma che poi che vuol dire vuol dire che insomma se sei un gentiliano doc ti devi dare da fare nella realtà essere non solo militante ma rivoluzionario di ciò che hai di fronte e allora nel confronto con le scienze sociali da vita una rivista molto interessante che proseguirà le sue pubblicazioni fino al 35 e che vede ad esempio per la prima volta in certi casi tradotti autori in particolar modo dell'area tedesca che sempre più interessa a Ugo Spirito che poi compirà anche dei viaggi in Germania nella Germania itleriana questa seconda fase però non la faccio coincidere con nuovi studi di diritto economia e politica nel senso che la fermo prima la fermo al 29 dicevo autori per esempio vengono tradotti Kelsen Hans Kelsen credo vi dica qualcosa mi rivolgo in primis agli studenti insomma colleghi va da sé Max Weber e e molti altri finisce prima perché qui c'è un'annotazione molto opportuna e importante che dovete portarvi a casa studentesse e studenti di Alessandra Tarquini che in qualche modo nella storia dei principi del regime c'è un po' ci sono anche altre ma i principali sono Gentile Bottai che un po' se la battono e in effetti tra fine anni 20 e primi anni 30 il trade union tra la seconda quella che io chiamo seconda e terza fase di spirito è Bottai perché Bottai è colui che in qualche modo in questa ricerca di far rivoluzione si indirizza verso le istituzioni allora d'accordo le coscienze d'accordo tutto ma adesso io che ho studiato le scienze sociali prima il diritto tra il 26 e il 29 l'ha completato perché è un costantemente inappagato il nostro ugo spirito dice adesso mi butto mi butto in economia tenete conto che il 29 che c'è dico agli studenti che succede nel 29 la grande crisi del 29 crollo della borsa di Wall Street eccetera eccetera quindi nel 29 c'è da rispondere a quella che sembra la conclamata finalmente Marx ci ha azzeccata pensano in molti fine del capitalismo corriamo a ripari o meglio seppelliamolo dal punto di vista fascista o comunista e allora la fase 30 35 è la fase poi che ha reso spirito noto a un po' a tutti insomma almeno ha fatto giungere l'eco forse anche a qualcuno di voi cioè il teorico del corporativismo ve ne sono tantissime anche qui c'è un bailamme di corporativisti di tutti i tipi di tutte le specie di tutte le variazioni dal corporativista liberale più o meno concetto simorico a quello appunto che invece è integrale quello di spirito che dovrebbe essere tipiche espressioni da filosofo neoidealista e attualista il superamento del liberalismo e del socialismo quindi il corporativismo scrive spirito come il liberalismo assoluto e socialismo assoluto ora non ve lo sto insomma a spiegare però ora sembra diciamo così io l'accento poteva essere un po' ironico ma in realtà è a parte che è una roba su cui si concentrano tutti compreso anche l'università cattolica del sacro cuore fior fiore di intellettuali cattolici che poi saranno tra i principali anche costituenti della repubblica italiana ma è anche un contributo a quel ruolo interveniente dello Stato che però nel caso di spirito dovrebbe essere così avvolgente da vedere una fusione tra società e Stato e in una visione l'avete presente Platone e la Repubblica dove sostanzialmente in una visione olistica la società e lo Stato sono una sola cosa perché tutto funziona perché ognuno sta al suo posto e ognuno fa la cosa giusta perché lì doveva stare e lì in qualche modo è nato o meglio è stato individuato che doveva stare e doveva produrre quindi una visione qui si se volete un pensatore totalitario non lo sono tutti nel fascismo spirito lo è e in questo senso cioè ha una visione davvero che non lascia scarti che tutto vuole assorbire quarta fase la quarta fase va dal 36 al 43 ed è la fase però dicevo a sua volta divisibile in due dal 36 37 guardate un po' coincide anche con l'inabessarsi dei due mentori di parziale diciamo per Bottai più sostanzioso per Gentile due mentori di spirito c'è stato vabbè tutte le polemiche sollevate da da Ferrara a proposito di questa anche diciamo pluralità cioè dentro una dittatura partito unico con l'uomo forte eccetera però poi ci sono i gerarchi sotto gerarchi eccetera che si fanno come i galli in un pollaio si becchettano e quindi spirito incappa nelle ire di Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon vecchio appunto Quadrunviro ma appunto Proposio Centoanni Marciasurum eccetera eccetera e quando questi De Vecchi diventa ministro dell'educazione nazionale tende insomma a non favorire se non a penalizzare indubbiamente al netto di quello che poi ci carica sopra spirito nelle sue memorie ma indubbiamente lo marginalizza in generale l'esperimento bottagliano che è quello accennato che ha il suo fulcro a Pisa tra fine anni venti e metà anni trenta viene depotenziato e il principale il più vivace quello che con voi studenti aveva più successo era proprio Ugo Spirito a Pisa nella scuola bottaiana diciamo di scienze corporative quindi Spirito viene messo un po' ad un canto allottanato mandato a Messina e tra vicende personali non può più non è più un protagonista come tutti i filosofi più di come tutti gli intellettuali più di tutti i filosofi più di tutti gli intellettuali è anche uno che insomma che ama stare in scena che ama poter dire quel che io dico diventa realtà e viene preso dal numero uno del regime invece questo non accade quindi questa è una fase un po' di di crisi ma è una fase anche e non ve la posso raccontare oggi di travaglio suo filosofico serio profondo che lo porta a mettere in discussione alcuni capisaldi della teoria di Gentile mettendo in discussione i capisaldi della teoria di Gentile dal punto di vista strettamente filosofico anche politicamente non diventa antifascista ma in qualche modo ritiene che la teoria di Gentile ve la metto così in qualche modo non è sufficientemente rivoluzionaria come lui la pensa è più rivoluzionaria c'è una rottura profonda di cui peraltro parlo nell'introduzione a questa raccolta di scritti perché è estremamente significativa il carteggio è molto bello molto duro ma è un po' la storia che può succedere come dire delle lacerazioni tra un maestro molto amato e un allievo altrettanto amato dal maestro cioè c'è un dissidio con Gentile che si consuma nel 37 quando Spirito pubblica la vita come ricerca e prende appunto un'altra direzione ma prende un'altra direzione da un punto di vista teoretico qui sì possiamo dire seguendo Sasso è un attualista che diventa sui generis spiritiano un post attualista comincia a diventarlo ma resta fascista come restano sostanzialmente la gran parte fino a che non si danno alternative chiare e certe qui si mescolano tante cose poi andrebbe visto singolarmente non potremo nemmeno mai saperlo per quanti carteggi per quanti archivi tu vada a compulsare quanto c'è di opportunismo di convenienza e di chissà che cosa fatto sta che io dico appunto ci sono due fasi perché perché nel 40 Bottai che torna un po' in auge a seguito appunto veniva detto bene dal collega con la seconda guerra mondiale c'è in qualche modo una riconvergenza un riallineamento di molti intellettuali uno di questi è Bottai perché vi vedono un'occasione rivoluzionaria Bottai commissiona spirito con cui è rimasto sempre in contatto un testo da presentare niente po' po' di meno che ha venito Mussolini per dargli qui sì di nuovo tutte le volte fanno a gara tutti gli intellettuali molti dargli una carta ideologica di come programmare la partecipazione italiana alla seconda guerra mondiale che deve smarcarsi dall'impostazione eh razziale razzista imperialista eh di tipo eh nazionalsocialista itleriano deve appunto primato deve eh essere un contributo di civilizzazione per tenere la barra in qualche modo pur nella barbarie della guerra e essere l'occasione perché l'Italia diffonda un nuovo romanticismo rispetto all'illuminismo al nuovo illuminismo eh cosmopolita e sradicatore delle identità questa è una tematica che eh occupa le pagine eh di primato e in un articolo pubblicato per la rivista di Bottai il primo luglio del 41 Spirito tocca proprio questo questi temi di questa diciamo contrapposizione tra appunto un illuminismo rappresentato dalle potenze no nella retorica mussoliniana e fascista demo pluto giudaico massonica eccetera e eh invece appunto un nuovo romanticismo però nel caso eh italiano non deve essere un romanticismo brumoso e nibelungico hitleriano ma deve avere a che fare anche con il rinascimento sono appunto questioni di cui si dibatte supprimato con con Bottai e quindi scrivere dice questo testo che poi Gaetano Rasi eh recupererà negli anni 80 nell'archivio Spirito che poi più di recente e che fu pubblicato nell'89 e che poi eh più di recente per sempre per la luneditrice come quest'altra antologia è stato ripubblicato appunto con con introduzione di di Giuseppe Parlato eh guerra rivoluzionaria così il titolo che gli viene dato perché è questa diciamo eh l'idea e in qualche modo la committenza che Bottai Principe o diciamo in qualche modo mecenate del del Principe eh consigliere culturale del Principe eh da a Spirito e Spirito vi partecipa mh vedendo si vede anche dall'archivio con grande entusiasmo quindi a testimonianza arrivo a verso la conclusione che appunto eh Spirito eh resta fascista fino a che fino al 25 luglio sostanzialmente non segue poi eh con Maestro già c'è stata una rottura forte vi dicevo nel 37 sostanzialmente non si ricuce più e resta anche un cruccio in qualche modo una una ferita nel eh nell'animo di Spirito anche per tutto il secondo dopoguerra vi dicevo come Spirito valuta eh il fascismo eh successivamente allora rapidamente leggo credo quei cinque minuti concessi ci sia possibilità ehm l'avvenire dei giovani quindi casca a fuagiolo con con dei con una classe così nutrita un'aula così nutrita di studenti Spirito eh per farla un po' tronacciamo insomma più o meno corrispondendo eh al vero nel secondo dopoguerra non perde occasione per eh provare a cavalcare ogni occasione rivoluzionaria rispetto al mondo eh che da un punto di vista economico è capitalistico e da un punto eh di vista morale eh culturale è cristiano borghese cristiano cattolico borghese e quindi quando c'è qualcosa zacchete lui prova a metterci il cappello lo fa subito coi comunisti togliati capisce via e lo lo blocca lo prova a fare con l'Unione insomma l'Unione Sovietica sì una roba che è già nata grossa e insomma se ne frega di spirito eh con Mao non è che che poi ci va ma insomma non è che ci può dialogare più di tanto col 68 nella sua versione italiana ci prova ma ormai questo sarebbe un altro capitolo interessante che appunto è un uomo del 1896 e se c'è qualcosa che contraddistingue il 68 essere una spaccatura generazionale però insomma per farla breve nel 72 pubblica alcuni scritti che dal 68 al 69 ehm elabora e pubblica in merito all'appunto alla questione contestazione studentesca eccetera eccetera e scrive questo nell'introduzione che nel 72 appone a questa raccolta e ve la leggo un attimo così capite anche uno stile peraltro io mi sono laureato su Go Spirito perché a 16 anni studiando filosofia a Bagnano Fornero vedo nella siccome mi appassionavo a Machiavelli e Guicciardini ehm vidi nella bibliografia della Bagnano Fornero un certo puntato a Spirito Machiavelli e Guicciardini Sansoni Firenze insomma più edizioni e dici va che figata due piccioni con una fagua poi uno che si chiama Spirito per un per un pararomantico qual ero io a quell'età perfetto uno studioso che si chiama Spirito si chiama Seugo che mi dà due lo lessi non ci capì una mazza e quindi non spaventare ora magari si comincia a preoccupare a 20 e passanti ma a 16 ci può stare però mi piacque tanto perché in effetti poi leggendo forse l'ho capito un po' di più è una scrittura estremamente affascinante quindi è un autore che consiglio allora che dice per parlare dell'avvenire dei giovani è necessario anzitutto ricordare la propria esperienza della giovinezza e cercare di rievocare l'atmosfera determinata dagli ideali che ci nutrirono all'inizio della vita operante erano i primi anni dopo il 1918 e la confusione dei motivi post bellici non consentiva di avere idee chiare e orientatrici ma dappertutto era vivo il bisogno di un rinnovamento generale che fosse illuminato da una fede profonda e costruttrice questa parola fede è molto gentiliana e ricorrerà ossessivamente per spirito in tutta la sua vita che dà l'idea di questo elan di questo slancio vitale e di aderire a un qualcosa in nome del quale si è pronti a sacrificarsi a trasformare se stessi nel mondo e nel bisogno erano unite la vecchia e la nuova generazione in un'azione concorde che si esprimeva in programmi comuni vecchi e giovani in realtà poi per vecchi intende gentile che è del 75 insomma però la generazione precedente lui è del 96 perfetto una generazione di scarto all'epoca un vent'anni vecchi e giovani avevano una stessa meta e combattevano insieme in un'unica direzione basta ricordare gli anni dal 18 al 1924 per comprendere che cosa significasse la fede fascista della nuova classe dirigente da Croce a Gentile a Mussolini fino a Bottai a Balbo a Grandi l'ideale era uno solo e le stesse sinistre erano coinvolte nell'unico processo in questa atmosfera ebbe inizio la nostra giovinezza se volessimo caratterizzarla nella sua espressione dominante dovremmo appunto sottolineare il fatto della giovinezza quindi al tempo stesso c'è un comune denominatore però anche un po' vago è la chance è la possibilità è quel che nel caso specifico di Spirito e di molti altri come lui non ha fatto la prima guerra mondiale non vi ha partecipato ma come dice Vabbè Frizzolini come tanti altri ma insomma Frizzolini chiaramente è testimone autorevole anzi innesca una gara emulativa in che non l'ha fatta per un motivo o per l'altro e deve in qualche modo dare traduzione ulteriore definitiva a quello sforzo a quel sacrificio in mano che è stata la prima guerra mondiale quindi in Spirito l'adesione si conferma e avviene per un percorso puramente personale diciamo nel mondo accademico intellettuale perché segue gentile e quindi in questo senso non ha quell'imprinting di altri fascisti che è il reducismo il combattentismo e la guerra al netto che lui redige guerra rivoluzionare ma l'accento lo dovete mettere sull'aggettivo guerra non è un qualcosa che in lui richeggia non perché sia un pacifista ma è indifferente rispetto al tema guerra pace e sicuramente l'elemento guerriero e militare e militarista che c'è costitutivo dell'ideologia fascista per come va a costruirsi ma perché è un è un imprinting è un dato originario primario in Spirito ad esempio non c'è eravamo sì uniti alla vecchia generazione a chiudere amavamo i maestri senza distinguerci da loro ma sentivamo che con loro iniziavamo una nuova vita piena di ideali che si andavano chiarendo su tutti i piani a cominciare da quello filosofico nella generale confusione si andava nucleando una ricchezza eccezionale di germi fecondi che attendevano di essere condotti a piena maturazione sentivamo di cominciare eppur nell'ansia della trasformazione avvertivamo la gioia di un nuovo cammino l'inno giovinezza che poi non è fascista diciamo se ne appropria il fascismo l'inno giovinezza non aveva nulla di retorico e l'accenno alla primavera alla bellezza il testo invece nuovo viene introdotto in epoca fascista era immediato e senza riserve il problema dei giovani perciò era per noi il problema stesso della vita nella sua pienezza effettiva noi eravamo i giovani e l'avvenire era il nostro avvenire questa interpretazione del fascismo potrà sembrare generica e superficiale e vi lascio con questa ma perché credo dia materia su cui dibattere questa interpretazione del fascismo potrà sembrare generica e superficiale allo storico di oggi e di domani ma indica invece una realtà che si consolidò rapidamente nelle aspirazioni delle nuove generazioni togliete il termine della giovinezza al fascismo e non riuscirete mai a comprendere venti anni di storia italiana potrei dire molto altro mi fermo qui con questa frase netta e provocatoria da parte di Spirito grazie per il sinistro puoi spostare sì sì no ma posso ah no per lo streaming per lo streaming vado figura bene grazie allora abbiamo l'ultima relazione della mattina della sessione mattutina la professoressa Barbara Bracco che insegna storia contemporanea presso la facoltà di sociologia di Milano Bicocca si è occupata a lungo di costruzione della memoria di sacralizzazione della politica con particolare riguardo al periodo del primo dopoguerra e si è occupata anche di nazionalismo di storiografia e la politica estera con attenzione particolare appunto a Gioacchino Volpe di cui ci parlerà oggi prego grazie mille grazie mille anch'io ringrazio gli organizzatori l'università di Siena che ci ospita molto affettosamente devo dire gli amici della fondazione in particolare il professor Parlato e il professor Ungari che mi invita sempre con lo scopo io lo so vuole creare l'occasione per litigare e ci riesce sempre benissimo perché litighiamo sempre e quindi anche in questa occasione avremo modo di discutere l'abbiamo già fatto mi viene affidata mi viene affidato un compito non facile che è quello di restituirvi la parabola di un intellettuale di primissimo piano dell'Italia prefascista e poi soprattutto fascista qual è quella di Gioacchino Volpe storico medievista che via via adesso ve lo dico in pochissime parole via via adesso lo vedrete si avvicina sempre di più all'età contemporanea è un percorso lunghissimo quello di Volpe vive 95 anni che è un percorso una parabola abbastanza fuori dal comune ha degli inizi nasce in Abruzzo non vi faccio tutta la sua storia ma per puntualizzare alcune cose viene da quell'Italia provinciale lo si diceva ieri sera con la collega Tarquini che trova poi la spinta per andare verso grandi centri culturali nel suo caso è Pisa è uno studente a differenza di spirito invece molto brillante prendete nota ragazzi qui siamo al cospetto di un giovane che entra immediatamente nel dibattito e nelle istituzioni viene incardinato all'università con un concorso che fece per altro epoca ha 30 anni quindi insomma un piccolo infan prodigio della storiografia italiana devo dire che è anche un autore di cui io mi sono occupata diversi anni fa grazie anche alla disponibilità di documenti e di lettere che all'epoca mi vennero messi generosamente a disposizione proprio da Giovanni Bellardelli che voi avete appena appena sentito e che suscita in me sempre molta sorpresa nel senso che ci sono autori che riletti a distanza di molti anni possono deludere capita anche con la letteratura non è questo il caso e Volpe è stato ed è tuttora uno storico molto apprezzato anche da culture politiche storiografiche lontane dalla matrice dalla matrice politica di Gioacchino Volpe perché tornare ad occuparsi allora Volpe dopo la seconda guerra mondiale poi lo vedremo diventa un oggetto scuro per usare un eufemismo del mondo accademico italiano incorre nell'opera di epurazione lui che è fascista intellettuale organico lo è stato come vedremo e ovviamente nell'Italia repubblicana non c'è più spazio per lui il che comporta non pochi problemi sul piano proprio amministrativo legale ma anche umano e sentimentale perché vuol dire l'allontanamento da una schiera anche di giovani studiosi che in qualche modo avevano gravitato attorno alla sua cattedra negli anni del regime la riscoperta tra virgolette di volpe a cui molto si deve appunto con i testi di Gianni Bellardelli negli ultimi anni si è arricchita di molti altri contributi penso a Eugenio Di Rienzo Margherita Angelini Fabrizio Cossalter e via via studiosi di provenienza diversa e di generazione diversa lo dico a voi giovani perché questo è fondamentale dare una lettura diversa a stagioni uomini intellettuali su cui è stato detto e scritto molto ma evidentemente con un contributo da parte dei giovani totalmente nuovo la riscoperta di volpe coincise con una stagione della storia italiana e della storiografia tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 del secolo scorso di rimessa in discussione della questione nazionale la fine della cosiddetta prima repubblica tutto ciò che la fine della guerra fredda rimette in gioco il tema appunto degli storici della nazione e volpe torna alla ribalta io però qui mi concentrerò sul senso come ho scritto nel titolo della contemporaneità cioè perché uno storico che aveva lavorato sull'età medievale si era occupato di strutture sociali di comunità religiose famosi sono i suoi saggi sugli eretici perché si avvicina via via all'età contemporanea con quale piglio con quale vispolemica e partecipazione civile e politica che per noi è una cosa quasi banale all'epoca non lo era affatto perché per uno storico di inizio novecento occuparsi superare le colonne d'Ercole dell'età moderna o medievale e moderna era già quasi un oltraggio al pensiero della storiografia dominante dell'epoca vi ricordo che nel sopracitato concorso poi vinto a Milano da e siamo all'inizio del novecento proprio da Volpe il suo concorrente Gaetano Salvemini viene bocciato perché ha osato occuparsi di rivoluzione francese cioè di una cosa troppo vicina troppo attuale quindi questo è un elemento il secondo elemento è che questo avvicinarsi all'età contemporanea ha anche un elemento indubbiamente legato alla passione politica all'intellettuale militante e allora deve essere ben chiaro Gioacchino Volpe è disegna una parabola nella nella storia della cultura italiana molto coerente che si scrive totalmente nella parabola del regime e che poi ne paga le conseguenze non con la vita ma con un allontanamento abbastanza evidente il suo avvicinamento all'età alla contemporaneità lo si avverte già prima della grande guerra Volpe fa parte del 1876 e praticamente coetaneo di Gentile forse l'intellettuale più vicino nell'ambito del ventennio fascista più vicino a Gioacchino Volpe il quale continua a ripetere io forse non ho la testa per capire le cose difficilissime che mi racconti però sento che c'è una sintonia tra me e te e in effetti è un po' così poi le loro strade divergono perché Volpe non aderisce alla Repubblica di Salò e poi su questo tornerò dunque lui fa parte di quella generazione che all'inizio del Novecento incomincia a mostrare segni di insofferenza per il tipo di storiografia di interessi storiografici di passioni anche sul passato così come gli erano stati tramandati dai grandi maestri della storiografia italiana insomma incominciano a sollevarsi interrogativi anche sull'organizzazione dello studio della storia lui fa parte di tutta quella rete di giovani storici che pensa di dar vita ad esempio a nuove riviste storiche qualche volta in più delle volte sono iniziative destinate a spegnersi altre volte invece riesce a portare a casa anche dei risultati interessanti tutto questo avviene non ve lo dimenticate ci vorrebbe non una relazione ma un'intera giornata per raccontarvi il fermento della storiografia della cultura italiana nel primo decennio del novecento tutto questo avviene sotto la il magistero di Benedetto Croce a cui Volpe è legato in questa fase della sua vita e della sua carriera ma risente anche dei fermenti della società civile in quel momento io parlare di diciamo anticipazione di quello che verrà dopo no però certamente la cultura italiana degli anni dieci anche in ambito storiografico ha un'effervescenza una brillantezza davvero straordinaria parlare dell'avvicinamento alla contemporaneità vuol dire però parlare e lo vedrete anche di biografia lo si è evocato prima della nazione e di autobiografia e questo nel caso di Gioacchino Volpe è abbastanza evidente già prima della guerra laddove lui va alla ricerca della traccia della linea di un'idea di italianità che viene dagli secoli bui o quelli che sembrano i secoli bui del medioevo fino agli anni più più recenti tutto questo trova anche un suo fermento un suo elemento di vivacità anche nel suo avvicinamento al mondo politico piuttosto defilato perché si avvicina al movimento nazional liberale di Giovanni Borelli e fondamentalmente Gioacchino Volpe rimarrà per molti aspetti legato fino alla fine dei suoi giorni proprio a quel movimento almeno culturalmente idealmente infatti non ho qui il tempo per raccontarvelo ma nella sua frequentazione dell'accademia scientifico letteraria di Milano cioè ciò che precede la fondazione dell'università degli studi di Milano Volpe avrà un pessimo rapporto con la città di Milano lo dirà fino alla fine però ha la possibilità di allacciare tutta una serie di relazioni che lo portano poi ad aderire appunto ai circoli melanesi del nazionale liberale il punto di svolta è la grande guerra qui a differenza di spirito che appartiene ad un altro ad un'altra generazione un altro quadro qui ci siamo perfettamente non tanto dal punto di vista dell'età ripeto Volpe del 76 quindi quando scoppia la guerra è già un uomo fatto è già una personalità affermata ma prima di tutto è un interventista su questo non c'è alcun dubbio ed è un interventista a cui non piacciono le giustificazioni ideali o para ideali ci sono delle sue lettere in cui dà conto alla moglie o ad altri interlocutori delle manifestazioni a favore dell'intesa con la Francia la sorellanza latina e lui li prende sonoramente in giro ma quale sorellanza ci siamo guardati in Cagnesco fino al giorno prima adesso c'è tutto questo amore tra di noi qui agisce l'idea dello storico che sa che cos'è una guerra sa che cos'è diciamo il confronto la lotta anche fisica è inutile stare lì a raccontare e a infiocchettare quello che è un desiderio di politica di potenza punto l'Italia deve gestire i suoi interessi è inutile che mettiamo in campo delle idee che sono più che altro fasulle dobbiamo entrare in guerra per fare in modo che l'Italia superi per la prima volta una prova sul campo di battaglia e diventi nazione di questo lui è sicurissimo sì ci sono dei momenti un po' di incertezza anche di scoramento da parte da parte sua ma quella è l'idea è l'idea centrale vi partecipa da ufficiale di complemento vista l'età e il grado di istruzione ha anche una breve esperienza sul campo proprio vicino a Bollate ma poi entra a far parte dell'ufficio storiografico della mobilitazione che è un esperimento straordinario di lettura della storia della guerra in corso proprio messo in piedi da Giovanni Borelli a cui Volpe partecipa insieme ad altri intellettuali di primissimo piano dell'epoca tra i quali Prezzolini il citato Prezzolini con cui litiga spesso e volentieri ed è un esperimento straordinario inconcludente come il suo ideatore uomo Borelli da intelligenza vulcanica ma non molto organizzato l'ufficio storiografico verrà spazzato via da una relazione proprio di Benedetto Croce rimane il fatto che quel chiamiamolo ufficio studi è un'espressione sbagliata ma per intenderci è il primo che ha è uno di quegli istituti che ha pensato e non è affatto scontato perché noi abbiamo una percezione a cento anni di distanza della prima guerra mondiale come un evento di snodo uno spartiacque all'epoca non era affatto scontato lì c'è la percezione che quello che stai vivendo sarà un momento fondamentale che chiuderà un ciclo e ne aprirà un altro e l'ufficio storiografico lo fa passando attraverso la ricerca la ricognizione il monitoraggio anche di momenti della vita collettiva niente affatto scontati dalle canzoni il ruolo della donna lo studio persino del linguaggio dei soldati bestemmie comprese cioè cose che sarebbero state inimmaginabili lì c'è la prontezza e la lucidità di capire che qualcosa nel profondo del paese sta cambiando e noi dobbiamo assolutamente ricostruire in corso d'opera la traccia per il dopo caporetto Volpe come altri intellettuali sente il dovere di prestare un contributo alla nazione sul campo e diventa uno degli ufficiali P cioè uno di quegli intellettuali che ispirerà i discorsi non è esattamente un ufficiale P ma che ispirerà i discorsi che poi gli ufficiali P terranno ai soldati e sono guardate andate lì a vedere dei discorsi straordinari cioè l'uomo che aveva lavorato per anni sulle strutture di Pisa medievale maneggia delle cose legate alla drammatica attualità e non è una cosa facilissima in questo Volpe non è diverso da altri cioè vede la guerra come via via una prova difficilissima necessaria nella sua drammaticità che porta a sintesi il meglio della storia italiana lo dico malamente cioè tutto quel lavorio fatto negli anni precedenti l'avvicinamento all'età del risorgimento e poi al novecento trova una sanzione nella prima guerra mondiale la grande guerra è un rimescolamento di tutta la storia precedente e un approdo nuovo della nazione non che gli piaccia tutto quello che vede sia ben chiaro però osserva che quello è un avvenimento una prova che sta ridefinendo un paese che non è stato difficile che si è costruito come nazione con molte difficoltà qui è un passaggio importante perché storia politica storia della guerra diventa per usare un'espressione di uno studioso che con lui dialogò a lungo cioè Nicola Ottocar si parla di storia totale cioè immagina la contemporaneità la storia in generale e soprattutto la contemporaneità come una storia che deve tenere dentro e insieme tanti elementi e infatti è in questo momento che lui si interessa per esempio a filoni che già erano emersi nell'ufficio storiografico della mobilitazione curiosi ad esempio lavora molto sul movimento operaio e socialista durante la guerra lui che è interventista in questo volpe ecco perché dico che è un autore che non delude anche a distanza di anni è lo storico dei polloni cioè dei germogli e incomincia a vedere partendo dalla guerra e guardando indietro quelli che sono tutti i filoni che in qualche modo confluiscono nell'evento sacro della guerra l'emigrazione il movimento operaio l'irredentismo lo sviluppo delle campagne ci sono tutta una serie di filoni che lui poi giudicate voi se in modo arbitrario o mistificatorio addirittura o invece in modo intelligente riesce a mettere insieme e a intrecciare dico questo perché la sua adesione al fascismo avviene in modo se queste sono le premesse che ho malamente raccontato avviene in modo assolutamente naturale il fascismo è un'epifania che sta nella storia dell'Italia e che la riassume perfettamente sarebbe bello poter magari lo farò in sede scritta guardare al volpe giornalista che è parte del suo essere intellettuale militante dalla guerra in poi si moltiplicano i suoi articoli Corriere della Sera la sera poi il popolo d'Italia eccetera eccetera sono veramente tanti e lì c'è tra l'altro una penna felicissima cosa che non era scontata c'è il percorso quasi giorno per giorno di l'avvicinamento al fascismo dunque per lui il fascismo non è lo strumento di affermazione di una parte politica ma è la nazione cioè il meglio della nazione è confluito nel fascismo non si potrebbe essere adesione più totale di questa più convinta di questa c'è dietro al fascismo girando la questione dietro al fascismo per lui una necessità storica implacabile cioè il fascismo è una risultante di qualcosa che preme da dietro e che arriva si manifesta in quel modo e vi concorrono forze consapevoli e inconsapevoli magistrale rimane il suo riferimento nell'Italia in cammino opera che lui pubblica nel 27 e sulla quale poi polemizzerà con Benedetto Croce che invece pubblica la storia d'Italia e che gli dirà sì questa è l'Italia che marcia procede ma non pensano riflette adesso cito più o meno a memoria il percorso tra Volpe e Croce si chiude ovviamente si è già chiuso prima con i manifesti a cui si è accennato prima ecco nell'Italia in cammino e lo farà ancora nell'Italia moderna fa tutto un discorso sull'inserimento inconsapevole badate bene delle masse popolari nello Stato Nazione attraverso il Partito Socialista cioè una sorta di curiosa un curioso processo di inconsapevolezza che porta a quel risultato questo vuol dire che per Volpe il fascismo ha una sua necessità storica innegabile che lo allontana uno dall'idea che viene ampiamente praticata da molti intellettuali fascisti dall'idea dei precursori a lui che pure dedica molto interesse a Francesco Crispi non piace l'idea di andare a pescare nel supermercato della storia questo o quell'altro per dire sì il fascismo forse ha dei padri spirituali che arrivano prima lo vede come uno sviluppo prima di tutto collettivo e non legato alle singole personalità e poi perché ha troppo senso storico per non capire che questi precursori agivano in un contesto in un mondo con idealità anche molto diverse ma al tempo stesso non è neanche tanto persuaso dall'idea del fascismo come rottura come rivoluzione dentro al regime fascista sia sul piano politico che sul piano storiografico queste due anime il fascismo come prodotto di un processo di lungo periodo che ha i suoi precursori o il fascismo come rottura totale con la storia con l'italietta liberale ecco Volpe anche su questo ha molti dubbi all'inizio degli anni 30 nel 32 in un convegno dice il fascismo ha innegabilmente una relazione anche con l'italietta liberale che a lui non piace però poi va a rintracciare come vi ho detto prima i germogli anche negli angoli più nascosti della società italiana forse forzando anche un po' la mano pensate alle pagine che dedica all'irredentismo che fa da fermento a tanti nazionalismi di primo novecento ma ha una visione della storia e del fascismo molto più graduale e anche sensata a mio avviso Volpe ed è questo secondo me il suo contributo più importante conserverà questa particolare visione della nazione come una materia incontentata continua evoluzione e questo da questo punto di vista ne fa un grande storico e quindi il rapporto della storia con la contemporaneità e con la politica come un processo che non finisce mai che va avanti in continuazione questo questo gli ha consentito in quel momento cioè fino alla seconda guerra mondiale come vi ho detto prima di dare una profondità storica ad un fenomeno che poteva apparire anche all'estero se andate a vedere la traduzione dei suoi volumi all'estero sono tantissime l'idea di un movimento che ha una storia ha radici e ha radici non in una parte ha radici nella società to core questo ne fa uno storico che non è conformista come vi ho detto cioè che aderisce idealmente al ma lo mette poi a un certo punto in una sorta di via senza uscita perché se la contemporaneità le sollecitazioni del momento ti devono indurre a te storico pensare ciò che viene prima quali sono i fili da tirare per capire qual è la contemporaneità lui ovviamente di fronte alla seconda guerra mondiale e al crollo del fascismo deve ripensare questa sua idea e rimane in una fase di totale spaesamento e lo dice lo stesso Gianni Bellardelli ha curato alcuni anni fa la corrispondenza di Volpe da Sant'Arcangelo di Romagna negli anni 44 45 stiamo parlando di una località che è a ridosso della linea del fuoco quindi non una cosa da poco ha i tedeschi in casa con i quali all'inizio il rapporto è ottimo poi le cose si complicano un tantino e lui è smarrito cioè la nazione il paese oltre al regime che forse non è neanche tanto questo che lui aveva immaginato ricostruito va totalmente per aria e l'ultimo tratto lungo tratto della sua vita confuscato come vi ho detto prima dal tema dell'opurazione i pessimi rapporti con gli ex colleghi diventa tutto un ripiegamento su quella idea di nazione che aveva mirabilmente ricostruito nella prima lunga parte della sua della sua vita e che ora si sbriciola letteralmente e si sbriciola davanti agli occhi non solo dell'intellettuale fascista ma dello storico io non sono riuscito questa è una mia lettura se volete un po' forzata non ho capito che qualcosa stava avvenendo e che la nazione così come l'avevo immaginata io si sta sgretolando questo suo spaesamento questo suo smarrimento che poi diventa anche come dire ha delle punte anche sgradevoli in alcuni come ovvio che sia in alcuni momenti non ha mai avuto convenito Mussolini una particolare un particolare feeling personale anzi Mussolini non lo ama moltissimo e anche con il re lui che rimane monarchico fino alla fine lo è perché vuole proteggere e guarda l'istituzione monarchica come un elemento di continuità tra il prima e il dopo ma nel riguardo di Vittorio Emanuele III non ha mai avuto una grande simpatia a rileggere le sue parole nella campagna intervettista 14-15 contro Vittorio Emanuele III siamo oltre il vilipendio quindi ma questa è un'altra cosa dunque questo smarrimento è proprio dello storico che cerca di trovare una spiegazione ovviamente nella configurazione delle relazioni internazionali e chiudo con questa citazione per un pezzo e forse per sempre saremo ridotti uno staterello una specie di pianeta spento come la luna un grosso Portogallo o una grossa Grecia lui vede il tramonto non solo del fascismo ma anche dalla nazione peccato che non avesse più a quel punto l'energia per capire e seguire la vicenda della nazione italiana in un nuovo e diverso ciclo grazie ringraziamo la professoressa Bracco per questa davvero bella relazione su Volpe siamo stati bravi penso che siamo siamo sì no 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 sono bravi dunque abbiamo abbiamo un po' di qualche minuto a disposizione diciamo per se ci sono domande se ci sono interventi siamo qui i relatori sono tutti qui quindi se ci sono delle lo dico agli studenti ai colleghi presenti prego professor Ungari ma vieni se vuoi rompere il ghiaccio capito ma ah non non devi intervenire no no se vieni apri apri la discussione io ho sempre piacere Barbara prima ha fatto una battuta sul fatto che litighiamo sempre ma litighiamo sempre anche con un'altra persona forse con Alessandra quindi no 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 non è non è non è per quel problema non è non è misoginia no io voglio riprendere una cosa che hai detto sulla fine sulla fine no ma insomma sulla riflessione di Volpe che poi alla fine il fascismo deve molto anche all'italietà liberale beh quantomeno deve deve lo stato di la condizione dell'Italia di potenza mondiale l'indomani della prima guerra mondiale quella gliela deve allo stato liberale no se noi siamo stati una potenza mondiale l'unica volta che lo siamo stati ritorno a quello che dicevo alla fine è stato tra il diciannove e il quarantatré la realtà è questa è una situazione che gestisce poi il fascismo però questa è una cosa che l'Italia liberale la classe dirigente liberale consegna 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 al fascismo no io riflettevo su quello che aveva detto stamattina Giovanni Bellardelli all'inizio della relazione sulla quale in alcuni aspetti mi trovo largamente d'accordo e mi trovo largamente d'accordo sull'aspetto della della non chiusura del fascismo ora io ho affrontato per quanto riguarda un intellettuale che un intellettuale che fra l'altro non è di poco conto all'interno del fascismo intellettuale insomma diciamo giornalista intellettuale come Leo Lunganesi ora se noi andiamo a vedere il professor Bernardelli stamattina ricordava le dizioni Medusa della Mondatori ma se noi andiamo a vedere gli autori che vengono pubblicati da Lunganesi tra le due guerre mondiali viene pubblicata per la vengono pubblicate per la prima volta dei grandissimi autori americani che non hanno mai stati tradotti tradotti in Italia cioè viene pubblicata tutta una una narrativa che insomma in qualche maniera contrasta un po' con questa immagine di chiusura del del regime fascista cioè di un regime tetragono di un regime che è totalmente chiuso nei confronti degli apporti culturali stranieri poi certo ci sarà la critica nei confronti del jazz perché è una musica degenerata però forse quello che diceva stamattina il professor Bernardelli che non è riuscito a dire fino alla fine quella dimensione del tempo cioè oltre a non considerarlo un monolite il fascismo forse va considerato nella sua evoluzione lungo 22 anni che è un po' quello che diciamo anche del regime comunista un conto del regime comunista salignano un conto del regime comunista cioè non possiamo leggerlo tutto come un totalitarismo uguale a se stesso dal 43 fino al non so Cernienco fino a Bresner è chiaro che anche là c'è un'evoluzione che si attenuano cambiano i caratteri cambiano anche la persecuzione questo forse riguarda anche per quanto riguarda il fascismo ed è questo poi il motivo che mi porta a discutere con Alessandra Tarquini cioè nel senso che io sono d'accordo su quello che lei dice perché ne abbiamo parlato da tanto tempo e sono d'accordo con lei sul fatto che il fascismo va preso sul serio e che i fascistici credevano ora però un problema è dire questo cioè il fatto che molti fascistici credevano un problema è dire che quello che credevano è poi quello che realizzano ecco su questo io nutro un po' più di dubbi di Alessandra cioè un conto è pensare che il fascismo sia rivoluzionario e che noi stiamo cambiando gli italiani e poi arrivare al risultato se gli italiani li abbiamo cambiati e se questa presa totalitaria l'abbiamo realizzata ora ricordava prima del suicidio dell'omicidio di Gentile io mi sembra che l'unico che si uccide alla data del 25 luglio del 1943 è Malio Morgagni che era il direttore dell'agenzia Stefani che si esuscita proprio perché era crollato il fascismo ecco io nel 25 luglio del 1943 in quel frangente di crollo di tante cose non mi sembra vabbè non mi sembra che però ci siano stati tutti questi grandi crisi tali da giustificare appunto il crollo di tutto che c'è stato nel nostro paese però insomma non lo so ecco su questo scusate ma era una riflessione che mi è venuta oggi sentendo le tre relazioni d'apertura su questo aspetto che forse è anche una riflessione su quello che è un po' è stato il fascismo tutto qua molte grazie Andrea prima raccogliamo un po' di interventi se ci sono domande dell'arte venga aveva chiesto la parola no no venga salve a tutti salve a tutti anzitutto devo diciamo esprimere quella che è la mia stima per il professore parlato perché ho letto un suo libro la sinistra fascista e anche alcune sue interviste assieme al professore al capo di gabinetto Maglio Sargenti al tempo era un'intervista di un programma di Pisanò Pisanò sì allora diciamo che dal mio punto di vista sì si è parlato nel rapporto tra Bottai e Ugo Spirito dal mio punto di vista però c'è stato anche un diverbio tra i due ricordo ad esempio che a Ferrara c'era stata appunto una discussione su quale concezione dare del corporativismo perché Spirito parlava appunto della corporazione proprietaria mentre Bottai era avverso a questa concezione perché riteneva che superasse il sindacalismo e quindi in quella concezione diciamo che un po' eredita la concezione soreliana ecco quindi di un sindacato che viene riconosciuto come ente giuridico all'interno dello Stato veniva visto c'era già una contrapposizione una frizione tra i due già nel 32 e questo secondo me è un aspetto che va sottolineato particolarmente dopodiché ad esempio va sottolineato anche il rapporto tra Tartullio Cianetti e quello che è la sinistra fascista cioè secondo me uno dei più grandi esponenti assieme a Spirito e a Bottai della sinistra fascista è proprio Tullio Cianetti che tra l'altro è stato l'unico l'unico dei cosiddetti cospiratori del 25 luglio della seduta del Gran Consiglio che riuscì a salvarsi cioè per una pena di 30 anni perché poi aveva mandato una lettera di scuse al Duce per il voto per il voto che aveva dato e già tra l'altro questo dimostra come i propositi di socializzazione delle imprese e dell'economia precedono anche il 25 luglio perché questo progetto appunto di socializzazione soprattutto dell'industria bellica dell'industria pesante era prevista già nel maggio poi è stata posticipata ad ottobre per motivi diciamo che riguardavano più il ministro di grazia e giustizia che era quello che più si opponeva va bene così possiamo chiedere possiamo girare agli esperti sì sì se sono d'accordo soprattutto su questo diciamo sul confronto tra spirito e bottai c'era stato io ricordo a Ferrara questa appunto contrapposizione della concezione del corporativismo che è un tema che mi interessa parecchio assieme a quello della destra sociale di cui ha parlato anche tra l'altro un noto storico come Giano Accame che appunto ha sottolineato come in realtà la destra sociale precede anche il marxismo perché nel 1789 all'assemblea nazionale a Parigi la destra è rappresentata dai clericali e dagli aristocratici che erano le due classi che per prime sono state scavalcate dalla rivoluzione borghese e quindi sono state le prime a criticare certe durezze dello sviluppo industriale Max nel manifesto del partito comunista c'è un terzo capitolo di critica associata no nel senso cioè appunto non è che è proprio una domanda nel senso che sì sì no voglio sapere appunto qual è la sua idea professore se lei ritiene appunto che quale fosse diciamo l'idea più vicina all'ortodossia fascista tra le due concezioni di corporativismo cioè quella di spirito o quella di appunto bottai quindi se la permanenza del sindacalismo del sindacato come appunto come ruolo diciamo della corporazione appunto dovesse diventare proprietaria appunto dell'impresa o no grazie allora dunque su professore Sabracco all'amico Andrea Ungari che adesso è distratto che giustamente mi ricorda la questione della prova dell'italietta liberale nella grande guerra sono totalmente d'accordo con te e sottolineo il fatto quello che dico sempre ai miei studenti che l'italietta liberale un po' l'acera ha alla fine la pagherà a caro prezzo naturalmente attraverso la grande guerra come una prova decisiva e alla fine la vinge oltre 20 anni di retorica bellicista del fascismo la seconda guerra mondiale esercito italiano perde praticamente subito proprio collassa letteralmente quindi sull'italietta liberale ci sarebbe parecchio da sono totalmente d'accordo con te bene grazie professore dunque allora la domanda dello studente risponde c'era detto così è il solito ungheri non mi sembra una domanda sono un pizzo si si vieni qui perché ti vedono in stream giustamente non si perdono cioè voglio dire non è in realtà non è che io abbia moltissimo da dire nel senso che non è una domanda è una considerazione ovviamente come tutte le considerazioni legittime alla quale c'è poco cioè se il suicidio diventa un parametro o una categoria storiografica per interpretare il senso di smarrimento e quindi effettivamente la capacità dei fascisti di incidere sulla realtà italiana io non ho una risposta perché non capisco che cosa realmente significhi il tema il problema della quanto un regime politico riesce realmente o non realmente a fare cosa cioè il rapporto tra progetti idee e fatti certamente è un tema che riguarda io almeno la vedo così riguarda sempre le classi politiche e le classi dirigenti cioè non esiste la democrazia perfetta il liberalismo perfetto il totalitarismo perfetto quello che volete perfetto perché la politica è sempre la risultante di un rapporto tra idee e fatti quindi non so cioè se non conosco democrazie perfette liberalismi perfetti e totalitarismi perfetti il punto non sono le parole Popper dice non ci mettiamo a litigare con le parole e ci dice una cosa importante il punto è questo regime è un regime che introduce una forma di dominio politico nuovo io credo di sì cioè è un regime che ha in mente un modo di fare politica che ha un rapporto con gli intellettuali l'abbiamo ascoltato oggi con questi autorevoli intellettuali fascisti cioè abbiamo sentito Bottai Spirito Volpe il modo il rapporto tra politica e cultura cambia rispetto all'Italia liberale io direi di sì e dunque questi intellettuali che sono fascisti nella loro diversità poi anche quest'altra cosa che ci diciamo il fascismo non è un monolite quante altre volte ce lo dovremmo dire che cos'è un monolite perché l'Italia liberale è un monolite e invece l'Italia repubblicana è un monolite il monolite non esiste forse in 2001 ci sono uno spazio nella storia i monoliti in generale non ci sono e quindi non ci dobbiamo poi così stupire e dire che in realtà ogni volta che allora Bottai è diverso lo sappiamo studiamo le diversità e come cercavo di dire ci interroghiamo sul fatto che ciò che li unisce dittatura partito unico monopolio della violenza ideologia è più importante di ciò che li divide cerchiamo di capire qual è il loro contributo oggi abbiamo ascoltato storie molto diverse che però sono unite insieme da questo progetto e da questa come dire politica quotidiana di questa vita che è diversa vivere sotto un regime totalitario non è come vivere nell'Italia liberale e nell'Italia repubblicana altrimenti diventa appunto un po' tutto uguale noi gli storici dovremmo studiare le specificità cioè perché chiamiamo Italia giulittiana quel periodo lì che significa non è che è una specie di appunto notte in cui tutte le vacche sono nere prima di bottare il spirito forse sul problema della cultura Kelly vuole aggiungere qualcosa ricordo ai ragazzi ricordo agli studenti i lavori riprendono alle ore 15 con una seconda sessione sulla eredità del fascismo non meno interessante della allora prego allora ecco mi sono appuntato alcune cose allora Alessandra Tarquini fascismo ha un progetto unico sicuramente sì ci sono tanti a me piace sempre usare l'immagine dell'arcipelago l'arcipelago è fatto di isole se prendete quella che sta da una parte a un estremo e quella che sta dall'altra sono anche molto lontane e però l'arcipelago ha un nome allora il fascismo sì quando i fascisti di destra di sinistra di centro parlano lo stile fascista diciamo loro però c'è quindi adesso poi non stiamo a dire qual era questa sostanza però c'è certamente questa unità nella diversità via diciamo per capirci ora la questione che ho cercato di porre è un po' diversa perché la cultura italiana che come ho detto all'inizio non è la cultura fascista è la cultura italiana e qui vengo poi al totalitarismo una cosa che non ho potuto leggere però è veramente fantastica perché fa capire tante cose libro famosissimo di quegli anni Moravia agli indifferenti 1929 allora non è la stessa cosa se il libro viene accolto bene o viene accolto male ma come viene accolto il libro allora su un'autorevole rivista critica fascista di Bottai è accolto benissimo perché Moravia ha scoperto e reso con incredibile acutezza una zona innegabilmente esistente della moderna società borghese in cui la vecchiaia è immonda per incapacità di rinunzia e la gioventù è a tutto indifferente eccetera eccetera cioè una critica della società borghese che bel libro no? altro analogo perché il Corriere Padano fondato da Balbo quindi un altro dei gerarchi una persona in questo caso anche abbastanza autorevole Nello Quilici una quantità di veramente parolacce in fila che raramente se ne leggono dice quello di Moravia è un mondo lercio ma non rappresenta più il mondo lercio della borghesia ma il libro è lo scrive Nello Quilici un vomitaccio di motivi mal digeriti insalata russa di spunti putrefatta degli orti letterari internazionali fogna graveolente di tutti gli odori più naseabondi e c'è ancora di peggio che non leggo allora voi capite che non è la stessa cosa vivere in un regime in cui se vi da queste bastonate poi la metafora essendo so Italo Balbo e non passato da squadrista non metaforica queste bastonate il Corriere Padano però queste sviolinnate critiche fascista non è la stessa cosa no? perché questo permette di fare cosa? di pubblicare gli indifferenti fra l'altro per inciso pubblicate appunto dalla casa editrice Alpes di cui era che era amministratore delegato che era Arnaldo Mussolini il quale peraltro definisce questo libro niente proprio di meno che negatore di ogni valore umano però il libro viene pubblicato non viene sequestrato la quantità degli esempi sono infinite per cui allora è ovvio che diciamo non esiste alessane il totalitarismo perfetto il punto per venire al punto insomma l'errore secondo me clamoroso che ha fatto e fa e continua a fare ma questo riguarda lui naturalmente secondo me Emilio Gentile che avendo spiegato benissimo la questione il totalitarismo come tutte dopo il tipo di Weber tutto è un processo no? non esiste la democrazia però ragazzi ma cioè voglio dire era meglio o no stare a pubblicare l'indifferente qui o stare nella Germania nazionalsocialista no? nella Russia sovietica io penso che fosse diciamo meglio perché perché proprio queste posizioni diverse qui ho citato Emilio Gentile citerò Renzo De Felice in un gioiellino che nessuno conosce perché è una roba che avrà 10-15 pagine degli anni 80 su una serie di criteri per analizzare la cultura durante il fascismo in cui spiega come appunto ci fossero si creassero obiettivamente degli spazi di libertà con tutte le virgolette che vanno messe no? perché appunto non esiste il totalitarismo esiste un progetto totalitario che però fatica cosa impediva Mussolini di fare il suo ministero per la cultura popolare nel 22-25 no? cioè io ho studiato le direttive del capo ufficio stampa di Mussolini e tutte le varie trasformate sono all'inizio sulla cultura inconsistenti questi sono fatti con i quali bisogna fare i conti il totalitarismo è un processo ma se è un processo poi non si può contare quante volte il fascismo dice la nostra fede totalitaria benissimo lo dice poi dopodiché fede totalitaria ma misure totalitarie cosa ha impedito a Mussolini di fare arrestare a un certo punto il re che c'era una diarchia si dice è a un certo punto l'avrebbe fatto se Hitler scongiuri vinceva la guerra l'avrebbe fatto sì ma è fatto sta che mi risulta che è stato il re che ha fatto perché questo vuol dire una debolezza del totalitarismo è difficile fare un regime mi rendo conto povero Mussolini se possiamo dire così difficile fare un totalitarismo con un re porca miseria avrà pensato accidenti a me no? aver rinunciato alla repubblica però così sono andate le cose poi appunto se alcuni storici vogliono continuare a dire che questo non bisogna bisogna dire che tutti i totalitarismi allora sono uguali e va bene diciamo così che lo ditelo secondo me non si va da nessuna parte la seconda osservazione scusate sono cerco di essere telegrafico ma è anche una cosa un po' come dire hard da dire però sono in università sono in università che bisogna dirla allora a proposito della giusta questione che a un certo punto poneva Delia su Bottai è solo una cosa di opportunismo oppure un po' cioè un po' e anche non un po' credeva allora qui c'è una una questione si pone io trovo abbastanza convincenti le cose che lui ha detto però prima di arrivare a quello che voglio dire di abbastanza imbarazzante mi rendo conto però se non parliamo delle cose imbarazzanti che parliamo a fare c'è un bel tempo andiamo a passeggiare allora René Raymond che è stato morto qualche anno fa un grande storico contemporaneista francese mi è capitato di leggere questa osservazione che lui si parvalisce e diceva va bene lo so dico una cosa imbarazzante ma la dico e la cosa imbarazzante è questa gli storici si devono porre sempre il problema delle motivazioni degli attori contemporanei anche di di tutti perché se no diamo dei giudizi moralistici e lui dice e poi vengono a bottai la cosa si capirà subito che riguarda anche bottai Pierla Valla 1942 la terribile che si fa fatica io faccio sempre fatica a riferire di certi episodi il trasferimento nei convogli in Germania dei bambini ebrei cioè la cosa più mostruosa che c'è ebbene dice Hermon noi ci dobbiamo porre il problema delle motivazioni degli attori storici Pierla Valla capo del governo del regime di Vichy e allora pone una serie di interrogativi dice siamo sicuri che sapeva lui mi interessano gli interrogativi non mi interessa neanche la risposta che lui non dà siamo sicuri che sapeva che fine avrebbero fatto siamo sicuri che non ci sia stata anche la motivazione che dentro la cosa orribile che è la deportazione poi forse separare i figli dai genitori non aveva senso ci siamo sicuri che non ci sia stata la motivazione di ritenere che l'amministrazione francese non si dovesse fare carico non sapesse come farsi carico di questi allora sono motivazioni ripeto non importa se giuste o sbagliate riguardo un'azione orribile inqualificabile però noi ce ne dobbiamo porre bottai allora noi se non vogliamo finire come finiamo poi molto facilmente anche diciamolo pure comprensibilmente dato l'orrore dello sterminio degli ebrei però se facciamo gli storici se non vogliamo finire il moralismo noi dobbiamo porci anche un altro problema io non ho alcuna simpatia per bottai naturalmente però così come ce le poniamo sulla valla sapeva che fine facevano è ovvio che quando ci sono le leggi razziali lui fa quelle cose orribili fra cui cominciare a mettersi avanti col lavoro a fare quelle indagini fra orribilante non te l'ha chiesto nessuno tu ti vuoi fare no? vuoi fare bella figura orribile va bene però lui non era Eichmann perché noi stiamo finendo rischiamo di finire con tutta appunto la centralità che giustamente ha assunto il tema della Shoah se no finiamo nel moralismo e nella totale incomprensione tutti sono Eichmann e cioè nessuno è Eichmann allora bottai non era Eichmann cioè lui dobbiamo presumere non aveva la palla di vetro che arrivasse appunto a prevedere che così facendo contribuiva poi avrà contribuito così come sappiamo tutti il 16 ottobre del 43 non aver distrutto l'elenco degli ebrei romani ha oggettivamente contribuito ma perfino quella persona che ha fatto quella cosa ignobile di fare l'elenco di tutti quegli ebrei non era Eichmann ha fatto una cosa ignobile no? quindi questo dobbiamo sempre porci questo problema telegraficamente allora questo problema riferito a volpe detto delle cose Barbara Bracco condivido il suo cammino il suo passaggio sulla questione però l'ha detta essenzialmente tu hai parlato essenzialmente di ciò che lui pensava del fascismo c'è una motivazione nella sua tesione che noi che veniamo da un'altra epoca fatichiamo a pensare che è una motivazione molto immediata e vera cioè dobbiamo porci il problema che dopo la prima guerra mondiale per i contemporanei era veramente in pericolo lo stato liberale poi si è affermata la cosa appunto il socialismo massimalista una quantità di parolai figuriamoci che avrebbero sì vabbè probabilmente anzi sicuramente però per i contemporanei c'è una testimonianza di volpe che non ricordo data dove lui racconta subito dopo la guerra non era ancora smobilitato stava in divisa con la moglie camminava in una stradina dell'Abruzzo e dice se era ricordi sono passato vicino a degli operai che stavano mangiando ho avuto paura cioè ero con una donna mia moglie ho avuto paura cioè questa paura è stata una paura vera per cui dentro tutta una serie di motivazioni culturali ideali c'era anche questa paura Giacchino Volpe come molti altri con lui compreso Giovanni Amendola una delle vittime del fascismo leader come sapete studenti dell'opposizione costituzionale del fascismo all'inizio questo pensava che intanto il fascismo poi dobbiamo combattere però aveva risolto questo problema questo vuole dire ecco lo dico in genere agli studenti mi rivolgo perché viviamo un momento secondo me di crisi della storia di scarso credito perché stiamo tutti sconfinando nel moralismo mentre invece dobbiamo sempre porci le motivazioni loro non quello che pensiamo quindi noi l'ho fatta troppo lunga vi chiedo scusa grazie professore no 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 grazie allora un attimo un attimo vorrei un attimo a Danilo Breschi di non fare una lezione universitaria ma di rispondere in cinque minuti max allo studente che ci ha fatto questa domanda su e poi forse c'è una breve replica di Alessandro Tarquini e poi abbiamo dei tempi ristretti dobbiamo chiudere questa sessione Danilo per piacere molto davvero se assolutamente anche perché diciamo alla domanda quale fosse la dottrina tra quella di spirito e bottai più vicino all'ortodossia voglio dire vorrebbe dire intervenire appunto in un dibattito che conferma come all'interno di un regime che si costruiva e che poi noi c'è una lezione di metodo per gli studenti non so lei è studente bisogna tenere tutti i livelli presenti eventualmente combinarli ma capire che un conto è un dibattito di idee un conto è la storia quindi delle idee un conto è la storia delle istituzioni politiche allora le rispondo che quello che era più vicino all'ortodossia è molto probabilmente qui c'è il professor parlato che glielo può spiegare per filo e per segno che effettivamente in termini di corporativismo il regime applica questa è la risposta cioè ciò che è più ortodosso è quello nel senso è quello che più è approvato dal capo dei capi che è colui che edifica il regime e che monitora costantemente che risponda alla sua volontà e l'ortodossia è sostanzialmente la volontà del duce che ha delle evoluzioni perché è un governante di una stato-nazione che si muove in un contesto non è che poi le cose sono quindi e lo dicono fondamentalmente insomma se qualcosa sono un storico del pensiero politico però non come dire non innamoriamoci troppo poi delle idee e del dibattito delle idee e lo proseguiamo all'infinito ha detto quanto riguarda appunto il diverbio se lei guarda i diverbi anche gli accesi discussioni la storia dell'intellettualità chiamiamola così fascista all'interno del ventennio è vastissima di questi episodi quanto ho riportato io se ne potrebbe riportare anche altri esempi del rincontro tra Bottai e Spirito nel 40 e conferma che venne superato ma in realtà il carteggio non cessa mai e non fu un diverbio così insanabile quindi non l'ho menzionato perché Bottai fu solo uno Bottai anzi fu quello più più trattenuto perché gli disse Ugo qui grosso modo qui hai sei andato fuori del vaso adesso ti attaccano tutti quelli soprattutto che hanno un peso vedi Confindustria e dintorni ora mi diventa difficile proteggerti e infatti quindi è questo solo un accenno sulla sinistra fascista ma perché ci fece una recensione secondo me il libro di Giuseppe ha avuto un grandissimo successo ma io mi permetto di dire non so se l'hanno capito tutti perché fondamentalmente il lavoro di Giuseppe che consente Giuseppe Parlato un amico da quarto di sé e più è una riflessione che parte da uno studioso del risorgimento arriva al fascismo e va oltre cioè è una riflessione sulla sinistra nazionale che in un certo punto si trova dentro il fascismo è una roba che nella recensione ma comunque però per quanto riguarda destra, sinistra sociale eccetera appunto vabbè il discorso è lungo taglio via ciao allora Alessandra Tarquini alle alle 13 e qui prego siamo qui allora a oltranza andiamo avanti vabbè dai va bene Nicola possiamo vai vado io no io come dire io penso un po' la vedo un po' così ovviamente sono temi enormi ho tre minuti e non li posso affrontare avrei voluto chiacchierare e raccontarvi un po' di più per esempio sui meccanismi concreti di che cos'è la censura non lo posso fare allora mi viene da dire una cosa invece rispetto alle parole del professor Berardelli sul problema del moralismo perché non c'è dubbio che il moralismo non possa guidare l'azione né degli storici ma in generale degli studiosi tutti perché noi non diamo i voti a nessuno non siamo qua a dare le pagelle alla storia il tema però è un po' a rovescio cioè noi abbiamo raccontato che gli italiani non erano stati né razzisti né antisemiti quindi il problema non è che uno dice dobbiamo capire le ragioni certo che dobbiamo capire le ragioni ma fino a pochi relativamente pochi anni fa noi ci siamo raccontati una vulgata di italiani brava gente per cui noi non eravamo stati né razzisti né antisemiti e semmai questa era parentesi dovuta all'alleanza con la Germania dopodiché come ci raccontava Nicola questa mattina noi abbiamo uno dei più importanti intellettuali e politici fascisti che è un solerte esecutore delle leggi razziali appunto un anticipatore allora non è fare del moralismo dire questo non è Eichmann e quindi anche io non sono alta ma cioè non è rilevante che non sia Eichmann è rilevante che uno che ci crede fino in fondo questo è il dato che raccoglie lo storico e su questo ragiona e su questo è ovvio che siamo d'accordo perché è moralistico dire che questo paese ha degli intellettuali fascisti o antisemiti o razzisti eccetera dov'è il moralismo io penso che allora il confine perché il rischio qual è che a noi non ci stupisce nulla a noi ci va bene come dire emotivamente esistenzialmente culturalmente come storici come X c'è qualcosa che ci turba oppure a me ma perché siamo dissociati come storici e come persone direi di no no allora è vero cioè il moralismo non io non scindo il fatto che uno storico è uno che legge la realtà ma come dire la legge senza moralismo certo ma lo stupore c'è va bene grazie dunque i i lavori riprendono alle ore quindici probabilmente quindici o un quattro grazie a 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. la prima e Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti. 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 un autore. a tutti. 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 partito. fascista. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. si può fare. a tutti. 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 tutti. a tutti. a tutti. esiste. 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 uno dei a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. del sistema. non contro. ci riesce. ci prova. a tutti. tutti. della resistenza. di. e di procedere. alla defascista. sarà l'unico. No, non è l'unico tentativo di defascistizzare il movimento sociale. Nel 1977 si assiste a un altro importante episodio politico, molto importante per la nostra storia d'Italia. Siamo negli anni di piombo, i più difficili anni della nostra Repubblica e il movimento sociale italiano viene da delle elezioni del 76 che sono state un po' meno positive di quelle del 72, ma che comunque gli hanno dato 56 deputati. È tanto, è una cifra importante per un partito che è lì confinato e generalmente dei suoi deputati e dei suoi seggi non riesce a farsene più di tanto. Allora, si propone davvero la necessità di impedire al Partito Comunista di avvicinarsi troppo al governo, perché la solidarietà nazionale si sta trasformando in compromesso storico. Se nel 68 il Partito Comunista è marginato, le questioni di Praga, i risultati elettorali e molte altre vicende lo stanno confinando ormai all'opposizione, nel 76 il Partito Comunista ha ottenuto il 34% dei suffraci. Comunista Comunista è vicino alla democrazia cristiana, amministra cinque regioni importanti del nostro Paese, è tantissima, sta trattando di entrare nel governo a pieno titolo con la democrazia cristiana, occorre fare qualche cosa. Da qui il tentativo di una prova di un'altra defascistizzazione del movimento sociale. Diventiamo un partito percorribile, utile alla causa. C'è una grande scissione, il partito si divide letteralmente ma neanche in due, perché una parte se ne va, la parte che se ne va si chiama democrazia nazionale. Il nome non è casuale, c'è la democrazia cristiana, la democrazia proletaria e la democrazia nazionale. La metà dei deputati vanno con democrazia nazionale, la metà dei senatori del movimento sociale vanno con democrazia nazionale. Sembrava la svolta, ma non solo democrazia nazionale non riesce nell'intento di defascistizzare la MSI, ma alle elezioni anticipate del 79 il movimento sociale italiano conferma le sue percentuali e il suo rapporto di forza. Democrazia nazionale ottiene lo 0,6%. Il movimento sociale italiano non può essere defascistizzato. Ci riusciranno mai i rappresentanti della destra nazionale conservatrice a trasformare questo blocco granitico, per quanto strano nelle proprie componenti ideologiche, è, cari ragazzi, bisognerà attendere il 1995 e il tentativo appunto che vi accennavo prima, della trasformazione sull'onda di cambiamenti epocali e non nazionali. Il fracollo del Partito Comunista, la fine del comunismo reale, il fracollo dell'ADC, il partito di maggioranza relativa che governa il paese ormai dal 1945 in poi, e il cambio di forma. Fu anche di sostanza? Fu anche di sostanza. L'interrogativo per molti sarebbe stato quello di demissinizzare alleanza nazionale. Non è stato un percorso facile. Grazie. Ringrazio il professor Pardini per essere stato rigorosamente nei tempi, in misura davvero puntuale per questa interessante panoramica sul neofascismo italiano, che ha attraversato tutta la storia della cosiddetta Prima Repubblica. Vi presento adesso il relatore che si è spostato adesso accanto a me, che è il professor Pardini, scusa, il professor Chiarini, però c'è un signore che aiuta, che confonde. Il professor Chiarini, che è insegnato, professore ordinario di storia contemporanea, è insegnato per anni all'Università degli Studi di Milano, è attualmente presidente del Centro Studi e Documentazioni sul Periodo Storico della RSI, a Salò, fa parte di una serie di comitati scientifici, tra cui il comitato scientifico della Fondazione Craxi e della Fondazione Turati, e ha scritto molti libri, a parte i volumi sull'Italia liberale, in particolar modo sulla figura di Giuseppe Zanardelli, sul quale il professore è tornato più volte, ma ha molti libri sull'Italia repubblicana. Io ne volevo ricordare almeno sull'Italia repubblicana, sull'esperienza di Salò, io ne volevo ricordare almeno due, uno che è recentissimo, Storia dell'antipolitica, dell'Unità, oggi, perché gli italiani considerano i politici una casta, e poi un libro molto bello, che a mio avviso ha segnato un po' il dibattito pubblico in questo paese, nel momento in cui è stato pubblicato, un libro davvero significativo, che era 25 aprile, la competizione politica sulla memoria, che insieme al volume scritto, quasi con lo stesso titolo da Pietro Scoppa, la 25 aprile sono stati forse gli interventi di maggior rilievo su questa data, e che a mio avviso hanno contribuito anche a sbloccare un certo discorso, a sbloccare, insomma, avrebbero dovuto contribuire a sbloccare un certo discorso sul 25 aprile, ma non sempre è stato recepito, nel senso che forse si lo spiegava anche il professor Chiarini. Scusatemi se mi sono dilungato, il professor Chiarini fa un intervento dal titolo di risolta conciliazione di memoria e identità nella destra italiana, e sono sicuro che sarà un discorso anche molto concentrato sull'attualità. Prego, professor. Grazie della presentazione, grazie di avermi invitato e complimenti per aver dato vita a questo incontro che mi sembra molto fertile di suggestioni e di aggiornamenti. Ecco, io ho identificato il tema dell'identità e della memoria perché sono convinto, riflettendo su questi 75 anni di storia della destra, che siano due versanti molto utili a capire e a seguire l'evoluzione, mettendo in luce le acquisizioni, i ritardi e le mancanze di questa storia della destra. Ora, l'identità è l'autorappresentazione che un soggetto politico fa di sé e che propone al mercato politico, all'ambiente. la memoria, io direi che è un po' lo specchio in cui una forza politica cerca conferma di sé nel passato e cerca di avere del passato una proiezione sua che lo conformi a se stesso. Quindi un rapporto dialettico. Il rapporto tra identità e memoria è valido per ogni forza politica, per ogni collettività, perché deve dare un senso al suo esistere e al suo progetto di futuro, collocandolo all'interno di un processo storico, non senza fondamento, senza radici, perché non è credibile. Non è credibile per il suo popolo e non è credibile soprattutto come progetto politico. Questa, diciamo così, forza dell'identità e della memoria diventa cruciale nei partiti antisistema. Nel senso che, essendo in lotta contro il sistema, devono irrobustire la propria identità per reggere la battaglia e nello stesso tempo devono trovare nel passato ragioni che li metta in un percorso storico che, avendo avuto un passato, avrà anche un presente e avrà anche un futuro. Ora, fino a quando una forza antisistema resta extraparlamentare, questa simbiosi, corrispondenza tra identità e memoria è molto facile, perché innesta un conflitto che trova la sponda nel passato per reggere l'identità nel presente. I problemi cominciano a nascere quando una forza antisistema diventa parlamentare. La storia ci insegna che la democrazia parlamentare ha una forza integrativa straordinaria. Al di là degli intenti, se una forza antisistema resiste per qualche generazione in una democrazia, è inesorabile che si debba integrare bene o male, completamente o parzialmente. E questo processo crea dei grandi problemi, innanzitutto sull'identità, perché l'identità antisistema, nel momento in cui ci si inserisce nel sistema e in qualche misura si è costretti ad accettare il gioco, le regole del gioco, se si vuole giocare, è evidente che questa identità, al mutare dell'ambiente, deve trovare quella che Pane Bianco chiama la coniugazione. Faccio l'esempio del Partito Socialista italiano, ma andrebbe bene per tutte le forze socialiste. Ricordate, il Partito Socialista nasce sul problema se votare o meno, e si rompe con gli anarchici, perché gli anarchici non vogliono sentirne parlare, entrare per fare testimonianza, perché è una tribuna dalla quale la causa dei lavoratori può essere combattuta. Poi c'è di mezzo il 98, con l'arresto dei leader e la chiusura delle camere del lavoro, e presto c'è la svolta giolittiana, che viene non solo accettata, ma incoraggiata da una parte dei socialisti. È meglio avere Perlu che ti caccia in galera, o è meglio avere Giolitti che ti lascia fare lo sciopero? È meglio questo, ti lascia anche magari avere la Camera del Lavoro con gli appalti per certi lavori che ci danno i finanziamenti per poter vivere, e via di questo passo. Fino al punto che le forze socialiste d'Europa diventano l'asse portante delle democrazie parlamentari dopo il 45, perché i partiti di integrazione di massa sono per eccellenza i partiti socialdemocratici. Quindi c'è un problema di coniugazione della propria identità, che ovviamente impone al gruppo dirigente di modificare anche la memoria, cercando un aggiustamento che non smentisca la svolta, ma la confermi e le dia legittimità, altrimenti paiono come dei traditori, dei rinnegati. Kowski, un rinnegato, che poi ha aperto la strada della socialdemocrazia. Ecco, il problema grosso nasce con la base, col popolo dei militanti, e soprattutto con il popolo dei fedeli, diciamo così, per i quali l'identità è confermata dalla memoria, e fanno un blocco che è difficile da scalfire. Questo è tanto vero che, se voi pensate alla storia del Partito Comunista, che nell'89 ha ormai modificato la sua identità, è to cure un partito socialdemocratico, ma è stato ben attento a non toccare il tema delicatissimo della memoria, perché toccando questo viene a creare una frattura col suo popolo. Quindi non vuole fare, non dice ad avvenire baffone, però c'è l'internazionalismo, c'è l'eurocomunismo. Ora, cosa sia il comunismo negli anni Ottanta per una democrazia occidentale? È un mistero, perché se voi leggete anche quel che scrive l'eurocomunismo Berlinguer nasce, vive e muore comunista e si arrampica sui vetri per dimostrare, per cercare una formula che salvaguardi la democrazia che vuole difendere, ma non vuole tradire i fondamentali del movimento, perché questo lo metterebbe anche, non fuori dalla sua coscienza, ma anche del movimento. Allora, il partito arriva che ha già un'identità matura, ma ha una memoria disallineata. Nel momento in cui, come capita spesso a un partito antisistema, che a un certo punto non deve solo coniugare l'identità, ma la deve sostituire, e qui nasce un trauma. Allora, dico tutto questo perché se il partito comunista, che ha una lunga storia di coniugazione, al momento della sostituzione, trauma, scissione, abbandono, lacrime, no? Il film di Moretti ce l'ha testimoniato bene questi, è un trauma difficile da superare. Ma, e aggiungo l'ultima nota, è talmente difficile che, a mio avviso, resta una discrepanza continua anche dopo la sostituzione dell'identità con la memoria, che secondo me crea una simmetria che la sinistra italiana paga tuttora, e cioè, uno è un partito socialdemocratico, ma non vuole essere socialdemocratico, perché dire socialdemocratico vuol dire darsi torto di una storia dei 50 anni, che erano i rinnegati, Saragat, non parliamo, non solo questo, ma la sua galleria dei padri nobili restano Gramsci, Togliatti, Berlinguer, soprattutto Berlinguer, cioè tre comunisti. Perché è difficile sostenere che Berlinguer non fosse comunista. E questo, cosa ci si aspetterebbe in un riallineamento? Che i padri nobili dovrebbero essere Turati, forse Saragat, forse anche Craxi. Tanto è vero che sull'unità, prima Craxi è presentato post mortem, come il Giovanni Battista di Berlusconi, cioè praticamente l'uomo della destra moderna, e poi c'è un articolo in cui si dice che fa parte della storia del socialismo. L'unità. E c'è un articolo di Viaggio dei Giovanni, in prima pagina, che sostiene questo. Questo significa che identità e memoria non sono riallineate e non essendo riallineate creano una frattura nell'identità del partito che ragione anche dalla sua debolezza programmatica, a mio avviso. Il partito comunista ha potuto, da partito antisistema, cambiare la sua identità, coniugandola, non solo per l'abilità del suo gruppo dirigente, ma perché fonda la sua identità su un progetto di società. E questo ti dà la possibilità di ricontrattare tempi e modi, perché il sol dell'avvenire deve venire, ma non è detto quando deve venire. Verrà. L'importante è che io creda che debba avvenire, non in un anno, non in due. Con riforme di struttura, con la rivoluzione, con l'eurocomunismo, non si sa. E quindi questo permette una coniglazione lunga, senza grossi traumi. Chi esce dal partito, rompe col partito comunista negli anni 50, o nella fine degli anni 60, il manifesto, gratta in fondo al barile, perché il partito conserva questa sua marmorea solidità. Veniamo alla destra. La destra è un partito antisistema. È un partito antisistema, però, cioè è un partito, è un movimento antisistema che si pone subito il problema di entrare nelle istituzioni. Essere fascisti in democrazia, lo dice Almirante, che questo è il grande dramma, per cui devi trovare una coniugazione che ti permetta di entrare, salvaguardando il fondamentale, che è un partito di vinti. Ecco, io insisto adesso, mentre l'identità del partito comunista, è l'esempio più plateale di confronto che abbiamo nella nostra storia, è un partito che ha un'identità progettuale, programmatica, nel caso della destra italiana neofascista l'identità non è programmatica. È un'identità dei vinti. È un'identità che perciò incorpora una scelta non politico-programmatica, ma politico-esistenziale. Io ho intervistato più di 100 ragazzi di Salò, sono già morti tutti purtroppo per loro, perché comunque ho cercato di intervistare scegliendo per quanto possibile radici territoriali, sociali, culture diverse, per avere uno spettro di quel mondo però che non ha scritto memorie, che non sono letterati, ma gente semplice. La cosa costante di tutti è uno, il 25 luglio è doloroso, ma non è un trauma. Il trauma è l'8 settembre. L'8 settembre, qui adesso non voglio diffondere, ma ho uno spettro di testimonianze che ovviamente ho raccolto con la prudenza di chi raccoglie le fonti orali, che sono molto pericolose da maneggiare. Quando tu gli dicevi, ma scusi, lei il giorno che è stata dichiarata la guerra aveva 14 anni, io penso, capitasse a me, o fosse capitato quando avevo 14 anni, la prima cosa che pensavo, dove mi salvo? Perché qui è... E loro ti guardano e tu vedevi dall'espressione la loro identità, ma scusate, la guerra voleva dire che voi prima o poi avete 16 anni, finite in guerra. E allora? Ma eravate fascisti? Tutti rispondono eravamo fascisti, eravamo italiani, quindi eravamo fascisti. Quindi per loro questa identità è marchiata nella loro esperienza. Io non ho il tempo di leggervi alcune espressioni molto sintomate. Cioè, diventare, negare la loro... il loro passato fascista voleva dire negare la propria identità. E la propria identità non è connotata da progetti politici, ma da progetti esistenziali. Le loro parole sono onore, fedeltà alla parola data, amore della patria e l'elemento comune di tutta questa generazione diciamo dei ragazzi di Salò è che puoi cambiare tutto, puoi anche mettere in discussione scelte del regime. non devi far passare come infami quelli che hanno lavorato per la patria in cui credevano. Questo è il punto cruciale sulla quale che è il sentirsi estromessi dalla comunità nazionale. ho intervistato la figlia di un internato militare in India prigioniero degli inglesi odiava gli inglesi ovviamente già prima apposta per quello si rifiuta e sta lì tre anni perché torna alla fine del 46 si rifiuta di studiare l'inglese studia il tedesco per cosa e quando dicono che è caduto Mussolini non ci crede perché non può essere vero è una macchinazione torna sbarca a Napoli a fine del 46 con la camicia nera con la camicia nera e lo fanno per arrestare lui dice arrestatemi ma io non me la tolgo torna a casa non riesce più a dormire nel letto perché era abituato a dormire per terra ha tutta una serie di cose e muore voleva fare il corporativismo questo voleva le colonie lui voleva che da giovane ha dato questo alla patria nel suo soggettivo e questo vuole che le sia riconosciuto questa identità esistenziale crea questi problemi alla destra italiana che è una destra fascista neofascista che da un lato deve fare la marcia attraverso le istituzioni e quindi muta continuamente senza proclamarlo la propria identità beh Michelini vorrebbe diventare creare un grande partito conservatore con la democrazia cristiana chi lo sente come un tradimento ordine nuovo esce ma non ha un grande successo perché sostanzialmente non è messa in discussione l'identità tradizionale e nemmeno e tantomeno la memoria c'è il problema che questa memoria non si deve intaccare infatti essendo una memoria questa è la mia interpretazione politico esistenziale è molto duttile sul piano programmatico tu puoi essere monarchico o repubblicano che non è una cosa da poco per un repubblichino che diceva il re fellone va benissimo alleanza subito nessuno si lamenta troppo va benissimo puoi essere prima sei assolutamente ne mosca ne uoce che sono i nemici gli alleati poi va benissimo invece diventano gli alfieri nel giro di tre anni alfieri dell'atlantismo anzi la grande colonna dell'atlantismo in politica economica sono per la difesa della proprietà privata e della borghesia un anticomunismo sono le forze che vanno a combattere contro le manifestazioni sindacali sono in prima linea e si fanno orgoglio di piegare i sindacati e nello stesso tempo coltivano coltivano sentimenti antiborghesi o anticapitalisti no per cui voi avete sono filo israeliani ma sono anche filo arabi non è che questo spacchi il mondo vive tutto dentro l'importante che tu non tocchi la loro scelta di essere in una certa parte che ha le sue basi nella glorificazione di quegli anni non degli anni del regime tu puoi mettere in discussione la guerra è stato la grande sbaglio di Mussolini magari poi lo togli di mezzo dicendo che non è proprio colpa sua ma era l'entourage che l'ha tradito l'ha fatto capire male le cose tu puoi dire i militari soprattutto ovviamente tu puoi anche dire e veniamo all'oggi che le leggi razziali sono una vergogna no che è un'infamia assoluta con questo non voglio sminuire la portata revisionista dell'affermazione della Meloni ma se voi provate a vedere sono sempre delle ripensamenti non dell'esperienza non un giudizio critico su quel che è stato il fascismo ma su singoli settori che non incidono sul valore morale di quell'esperienza nel 95 nel 90 nel 98 io sono stato sia a Fiuggi che alla conferenza programmatica di Verona abbiamo distribuito dei questionari per cercare di capire qual era la cultura e i valori dei quadri non dei dirigenti interessante che Fidi che doveva essere dal fiere della riconsiderazione dell'abbandono di una memoria che aveva detto che era il male assoluto noi stiamo per distribuire eravamo in quattro dell'università di Milano i questionari dice che non si possono distribuire che non si deve parlare di fascismo per fortuna c'era il giovane Tremaglia che con coraggio va al banco e dice no no distribuiteli il professor Chiarini è affidabile rispondete cosa rispondono dunque il fascismo è male assoluto il 62% dice che il fascismo è stato un buon regime solo l'1% lo condanna e qualcun altro va ricchi quattro anni dopo idem non 62 ma 61 quindi non è cambiato molto e tu gli chiedi che cosa leggono quali sono è una babele perché c'è Evola Spirito Tocqueville Einaudi sembra che questi siano i nuovi libri acquistati per mettere nella biblioteca di casa per far vedere che questo cosa dimostra che l'identità dei fedeli anche dei quadri per quanto siano politici e quindi siano molto più il senso del realismo e della modificazione resta fissato a questa storia che non deve essere toccata finisco qual è stata eh eh che siamo alla fine ci sono pochi coraggiosi che resistono ehm qual è stata eh la scelta del di tutti i gruppi dirigenti della destra italiana e dei partiti che sono susseduti MSI alleanza nazionale fratelli d'Italia è che questo tema è un tema chi chi tocca muore cioè toccare questo tema vuol dire far l'implosione del sistema d'altra parte in qualche misura bisogna allontanare disallinearsi da questo mondo la via meno dolorosa è quella di esaurire questa per ragioni anagrafiche in parte e lasciarle esaurire anche perché le sfide dell'ambiente del nuovo millennio non propongono assonanze con il regime fascista casomai sono di tutt'altro segno quindi la memoria identitaria del popolo di destra in qualche misura si viene sfarinando da sola si viene e questo ha permesso il partito al partito ai partiti ma soprattutto pensate alleanza nazionale il partito comunista giunge maturo alla svolta e paga una scissione l'alleanza nazionale cioè l'MSI si trasforma non paga quasi nulla sì Rauti la piccola cosa ma sostanzialmente qual è la ragione è che la nuova identità che permette di uscire dal ghetto che permette di non essere più esuli in patria ma di essere riconosciuti in una loro ruolo nel salotto buono della Repubblica li gratifica e mette in un silenziatore su una memoria che resta ma che viene sempre più relegata ad una specie di patrimonio non a caso viene coltivata non con progetti di rinascita o di rifondazione ma con fatti simbolici e cerimoniali puoi tenersi certi simboli no in casa e certi oggetti eh pellegrinaggi festeggiamenti anniversari che diventano eh quasi eh deprivate di una carica politica verso il futuro eh se voi io c'è una una località che è mh vicino a Peschira del Garda eh dove il si chiama la piccola Caprera eh che è una piccola proprietà così anche piuttosto accogliente di Balisti l'ultimo segretario del partito fascista repubblicano che ha lasciato per i camerati e i camerati lì per per decenni ogni domenica a seconda dell'arma vengono io sono andato varie volte perché quindi gli anni dopo dal 2000 al 2010 ovviamente si assottigliavano sempre più eh venivano tre in piedi o quasi uno portato dai parenti perché non era più in grado la decima mass che credo sia la prima domenica di maggio sono andato lì perché la decima mass sapevo che è una cosa seria c'erano campi interi come posteggio delle macchine cosa fanno da tutta Italia vengono giovani tantissimi comunque non certo eh ex ragazzi di salò e che cosa fanno quella mattina cioè uno si sobbarca magari cinque o sei ore di macchina vanno c'è il prete che dice la messa fanno il saluto fascista arrivederci cosa c'è lì ci sono banchi di libri il eh su che ne so gentile e vola no ci sono tutti portachiavi di Mussolini eh il vino nero di Mussolini cioè è un problema di simbologia che eh conferma attraverso il rito e le celebrazioni che si fa parte di una comunità che non vuole mescolarsi con gli altri fatto questo è finito non c'è un programma politico lì non trovate gli avversori lì trovate io ho anche dei ragazzi di vent'anni dice ma scusi come mai lei come mai lei è decima mas ti guardano non sanno rispondere ma la prendono una provocazione cioè ma che domande sono queste no hanno la moto hanno la scritta e basta è finita lì ecco questo per per capire anche rispetto all'oggi e qui finisco che questa mancata rielaborazione e sostituzione di identità e della memoria ha lasciato anche però un costo ha avuto un grande vantaggio per la destra di non pagare e di riuscire a collegarsi con quella maggioranza silenziosa che non è che ha voluto chiudere col fascismo sconfitto ma non ha voluto schierarsi nei ranghi dell'antifascismo e quindi è rimasta lì zona grigia zona grigia che è difficile poi che abbia un ruolo politico perché la sua è un'antipolitica cioè rifiuta la politica non ha un progetto e quindi non ha elaborato una cultura che possa dare un progetto e quindi è un materiale informe che come il materiale informe può essere anche molto cedevole e scivoloso però non avendo fatto i conti col fascismo dà un'arma importante agli avversari per ricattare su questo tema sul quale c'è un imbarazzo che non è un caso che la Meloni abbia risposto come fini il fascismo va consegnato agli storici cosa vuol dire cioè a te non chiediamo che tu faccia la storia del fascismo con un nuovo volume ma visto che sei un dirigente politico vogliamo sapere se vuoi un regime totalitario autoritario sovranista democratico liberale non lo so spiegaci perché dobbiamo darti la fiducia questo vogliamo sapere non che tu riscriva la storia non è un caso dicevo che tutti quelli partiti antisistema che poi sono maturati diventare partiti sistema hanno rivisto la loro storia no? cioè il partito comunista non ha a come dimenticato che c'era Bordiga perché quello era proprio troppo imbarazzante se voi chiedete a un ragazzo chi ha fondato il partito comunista Gramsci perché non si può dire Bordiga Bordiga è come il nonno che si chiude su in soffitta quando arrivano i parenti perché non si può presentare è impresentabile ecco la la destra è arrivata qui al punto in cui è riuscita ad agganciare questo popolo che io chiamo della maggioranza silenziosa cioè quel popolo che non ha mai accettato l'antifascismo e la sinistra era anticomunista nello stesso tempo votava la DC turandosi il naso adesso non c'è più la DC può anche votare senza turarsi il naso però non ha una cultura politica non è un blocco sociale soprattutto adesso e quindi è una materia informe scivolosa che puoi prendere e puoi perdere domani la mobilità con cui sono passati da Forza Italia a Salvini a Fratelli d'Italia in cinque anni dall'idea che appunto come diceva bene prima di me Orsina è è lì non ha una cultura non ha un progetto politico ma vorrebbe esserci e quindi questo è un problema grosso della di Fratelli d'Italia che sarebbe chiamato a avere un progetto politico che dia sostanza e ordine a questo mondo perché ho visto solo poche indagini sociologiche ma chi ha votato Fratelli d'Italia ha votato la Meloni non ha votato un progetto politico non ha votato un progetto politico tanto è vero che lei può essere da scettica Europa a diventare atlantista e non ancora proprio fila europea ma quasi non sarà costretta e credo che non pagherà nessun dazio su questo quindi è doppia la sfida dare una cultura e un progetto a questa che non ha mai avuto non c'è mai stato un partito conservatore di massa in Italia e nello stesso tempo chiudere i conti col fascismo in maniera che non possa più essere ricattata e chiamare magari se Letta invece di era coerente diceva c'è il pericolo e faceva il CLN diceva noi vanno bene tutti anche i monarchici perché c'è il pericolo forse magari vinceva anche le elezioni poi non faceva il governo però intanto vinceva le elezioni io ringrazio il professor Piarini per questo per questo bel intervento abbiamo chiuso prima perché voglio ricordarlo oggi purtroppo non è una potuta essere con noi Simona Guadarizzi che era la prima degli oratori che dovevano essere presenti oggi e che dovevano iniziare il convegno non so se ci sono domande da parte del pubblico qualche riflessione no a qualche momento c'è ancora però sentiamo i miei studenti se hanno qualche riflessione prego uno e due ah beh prego no prenda questo prenda questo qua così sì domande mi raccomando niente altre relazioni io lo dico perché se no facciamo come stamattina prego no ti va scendere qua da sotto bravo domanda brevissima sulla questione della della diplomazia e alla fine si è posto molto l'accento su eh il ruolo della diplomazia che ha servito lo Stato anche durante il ventennio quindi non il regime ma l'Italia sostanzialmente ma in due momenti storici fondamentali come guerra di Etiopia e poi emanazione legge razziale come la diplomazia ha reagito a questi due momenti è ok la questione serviamo lo Stato ma serviamo uno Stato che va a conquistare in Africa e dà la mano al nazismo per uccidere milioni di ebrei quindi va bene la giustificazione serviamo uno Stato ma che Stato stiamo servendo in quei due momenti specifici soprattutto grazie allora c'è un'obiezione diversa la prima che riguarda la guerra d'Etiopia non dimentichiamoci che l'espansione coloniale nel diciamo in generale nel corno d'Africa è un obiettivo dello Stato liberale voglio dire Stato iniziato non è finita bene ovviamente Adua ovviamente Dogali però voglio dire c'era già nello Stato liberale quindi alla fine dei conti è una direttrice ovvia dell'espansione italiana e credo che questo devo dire per un difficile naturalmente riuscire a comprendere che cosa avessero nella mente questi signori questo bisognerebbe chiederlo credo che appunto la commissione dell'epurazione ha fatto un bel questionario lunghissimo in cui chiedere tutte le cose ma naturalmente non potrebbe chiedere cosa avessero in mente con esattezza però io credo che sulla questione della guerra di Etiopia alla fine dei conti è la realizzazione di uno degli obiettivi della politica estera italiana fatta in un certo modo certo forse probabilmente qualche diplomatico avrebbe preferito degli altri sistemi ma alla fine dei conti voglio dire su questo non credo che ci fossero particolari particolari problemi io dico sempre appunto le immagini a volte contano anche se sono le immagini della propaganda vado a vedere le immagini della proclamazione dell'impero da parte di Mussolini e le migliaia di italiani siete degni voi eccetera sì sì probabilmente era propaganda probabilmente erano stati convogliati lì però alla fine dei conti in quel periodo probabilmente io sono abbastanza convinto che fosse uno dei momenti di largo consenso del regime se voglio dire gli italiani erano in piazza non vedo perché dei diplomatici non potessero pensare beh alla fine dei conti questo dimostra che l'Italia ha una grande potenza sulla questione delle leggi razziali certo la questione è evidente che si pone in maniera diversa come si pone in maniera diversa l'avvicinamento alla Germania di qualche dubbio da qualche parte anche all'interno della diplomazia c'è è difficile vederlo questi signori poi avevano tutti la capacità di di tacere quando bisogna tacere un diplomatico sa che si parla il meno possibile che è diciamo un buon principio è probabile che personalmente alcuni avessero dei dubbi sulle questione delle leggi razziali non c'è penso di sì però alla fine dei conti la maggioranza degli italiani ha reagito alle leggi razziali non vi pare ecco non ho visto questa grande reazione poi dopo naturalmente tutti ci siamo lavati anzi per mia fortuna non ero nato ma insomma tutti gli altri ci sono lavati abbastanza rapidamente la coscienza ce la siamo lavata dopo nel dopoguerra alla fine dei conti beh sì le leggi razziali c'erano ma insomma noi alla fine dei conti non eravamo così cattivi come i tedeschi che devo dire oggettivamente è vero perché sicuramente i tedeschi erano un pochino più cattivi a quino tanto più cattivi la vera questione è che alcuni hanno mostrato degli elementi di differenze d'opinioni probabilmente uno di questi è stato Cuaroni che non a caso voglio dire finisce ambasciatore a Kabul e Kabul devo dire alla fine degli anni 30 inizio anni 40 non credo fosse un posto molto divertente insomma dove andare a fare l'ambasciatore non è un caso che è l'unico diplomatico di carriera che svolge un ruolo importante come ambasciatore nel periodo 44-45 perché l'unico va a Mosca cioè viene nominato a Mosca tutti gli altri nelle ambasciate all'esterno sono ambasciatori politici poi al ministero è una cosa diversa quindi io ritengo insomma se è vero quello che si sostiene poi è difficile appurarlo alla fine dei conti anche la maggioranza degli italiani fino al 1942 sì l'alleanza con la Germania non ci piace i tedeschi non sono tanto simpatici però alla fine dei conti se poi vinciamo la guerra insieme a loro qualche cosa guadagniamo e forse va bene e forse va bene così e poi la fiducia nei confronti nei confronti di Mussolini e della della capacità di fare di fare alcune scelte poi possiamo chiamarlo anche un opportunismo forse possiamo chiamarlo anche in questo modo l'ho detto il vero cambiamento a mio giudizio è il 42 cioè alla fine del 42 i diplomatici sono i primi a comprendere che le cose vanno male e quindi a questo punto riemerge quello che dicevo prima la fedeltà alla monarchia lì la questione è la fedeltà dei diplomatici è allo Stato certamente sì però nella propria giustificazione la fedeltà è alla nazione e alla patria e quindi questo pone le cose in una maniera leggermente diversa per cui si può giustificare tutto invito Alessandra D'Arquini per la domanda no? sì 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 vabbè siamo rapidi io nel mente voi state venendo volevo dirle che poi la questione della Shoah cioè c'è una fase precedente cioè venite venite c'è una fase prima e dopo cioè la questione della Shoah e quindi il problema dell'approvazione delle leggi razziali della drammaticità delle conseguenze dell'approvazione delle leggi razziali è una cosa che emerge soprattutto nel momento del secondo dopoguerra quando si conosce lo sterminio degli ebrei nel 38 non si pensa ancora quella cosa questo non vuol dire non giustifica niente mettendo anche il doppio peso tra una legislazione persecutoria e una legislazione discriminatoria perché quella italiana fino al 43 è una legislazione discriminatoria ma non è una legislazione persecutoria cioè vengono presi e non vengono ammazzati vengono discriminati però dico detto facendo questa distinzione che magari può essere anche sofistica ma poi le cose formali hanno un loro peso comunque la visione che c'è prima e dopo che si viene a conoscere dei 6 milioni ebrei cambia completamente il discorso è una cosa che i contemporanei probabilmente non hanno la percezione di quella drammaticità prego no vabbè volevo solo dire una cosa però in realtà poi diventa anche persecutoria dal 45 ah c'è il salto in cui diventa persecutoria però ecco fino al 25 e questo vale anche fuori area cioè vale anche all'estero fino a che ci sono i fascisti nelle zone di occupazione dove ci sono le truppe del reggio esercito gli ebrei non vengono toccati veramente non vengono toccati forse un po' in stuoveglia ma in realtà non vengono toccati prego no allora vabbè volevo dire due cose velocissime perché una sulla relazione di Giovanni eccolo là e e poi anche un'altra cosa su queste entrambe queste relazioni sul neofascismo che mi sono sembrate molto cioè interessanti ho imparato moltissimo una cosa sull'antipolitica e sul cioè sul rapporto tra primato della politica e antifascismo o anche contestazione del primato della politica e anti antifascismo allora in realtà mi interrogavo su questo io non sono un'esperta di queste cose le ho affrontate da altri punti di vista no? e una cosa che mi colpisce è di fatto il ruolo e la trasformazione del partito di massa dall'inizio del novecento poi durante il fascismo e poi nel passaggio successivo allora se noi dovessimo appunto raccontare a degli studenti che cos'è la politica di massa del novecento parleremmo sicuramente del partito del ruolo del partito di massa che fa quello che un po' anche tu raccontavi cioè trasforma la vita delle persone quindi mi chiedevo se questo anti antifascismo non fosse come dire un fenomeno di fatto minoritario che riguarda quindi una piccola parte perché gli antifascisti li sappiamo cioè socialisti comunisti democristiani in qualche strano modo i fascisti non fanno parte della categoria che dicevi quindi questo anti trattino antifascismo chi riguarda perché me lo chiedo perché di fatto ho l'impressione che riguardi qualcuno che non sta capendo come funziona la politica di massa dal 45 in poi perché quel primato della politica che come mi sembra anche tu dicevi i fascisti esaltano e ne fanno un pilastro della loro attività attraversa poi anche l'Italia repubblicana i grandi partiti di massa sono partiti che educano che mobilitano eccetera e questo poi un'altra cosa che volevo dire riguarda la contestazione della resistenza da parte dal 68 in poi da parte di chi dice penso a Claudio Pavone e a tutto quel gruppo che contesta da sinistra il PC e dice beh ma in fondo la resistenza non è solo politica è anche individuale e citano Fenoglio il partigiano Johnny questo mondo allora in realtà anche questo cioè tornava al discorso che facevi tu no e poi soltanto una cosa sulle sono vabbè la faccio dopo no io volevo fare solo una domanda a Roberto Chiarini che ha spiegato molto bene quella che è la genesi cioè il vissuto della destra post 45 laddove tutto il tema dell'appartenenza di chi aveva operato e combattuto nell'Italia fascista e soprattutto nell'Italia repubblicana è molto chiaro poi quando si arriva però al passaggio conclusa quella generazione al trasbordo di quei valori da una generazione all'altra tu hai spiegato molto bene in realtà non le nuove generazioni non prendono in blocco quello che era stato lasciato dagli ex repubblichini prendono alcune cose qua e là dici perché non c'è una cultura politica alla fine e la domanda è scusate un po' diretta e forse un po' brutale forse questo è il suo grande vantaggio cioè noi che pensiamo sempre alla politica come diceva adesso Alessandra come uno strumento trasformativo e pedagogico invece questa destra degli ultimi trent'anni un po' si mimetizza dietro si nasconde non fa i conti fino in fondo e pesca qua e là alcune cose senza mai fare un discorso complessivo però in un paese come il nostro e come altri dove le culture politiche stanno declinando quello secondo me è un vantaggio non uno svantaggio e lo testimonia il fatto la stessa cosa che dicevi tu entro il perimetro del centro-destra c'è questa migrazione di voti per cui Forza Italia o Fratelli d'Italia fa alla fine la stessa cosa grazie sia negli anni 50 sostiene la tesi che avevo proposto sul fatto che è irrilevante il contenuto programmatico la cosa paradossale è che il neofascismo nasce per forza dei repubblichini e si e ha i voti al sud dove non c'è stato né repubblichini né partigiani quindi e che è un voto conservatore monarchico missilo non cambia molto da quel punto di vista è ovvio che l'MSI percepisce forte che c'è un mondo largo in cui potrebbe lui dilagare se annacqua questo non c'è meno di rivedere basta che il fascismo diventi insomma i treni andavano in orario ha fatto anche delle cose buone noi non vogliamo la dittatura la dittatura è stato un incidente cioè smontano la impalcatura dottrinale la cosa e ovviamente questo però cozza contro il fatto che fino a quando esiste l'antifascismo come argine alla legittimazione la prima a essere interessata a tenerlo vivo sulla destra è la democrazia cristiana che infatti accetta i voti sotto banco ma mai una delle ragioni per cui cade Tambroni non è tanto che gli faccia così schifo i voti dei Missini ma che non possono dire allora anche i Missini possono far parte perché a quel punto lì ci sarebbe una frana nel sud a vattaggio dei Missini quindi il ruolo della democrazia cristiana capisce che e la sinistra glielo fa capire meglio che non può non scegliere su questo terreno e allora c'è la svolta poi del centro-sinistra il discorso è molto complicato ma per venire all'oggi anch'io sono convinto non mi sembra di averlo detto in maniera molto sintetica questo è un mondo informe sdrucciolevole sfuggente che non puoi catturare con una cultura politica e perciò un'identità e quindi può sfuggire per tante ragioni il fatto che tu non faccia il contenimento della spesa energetica basterebbe quello se ce n'è un altro la politica estera non gli interessa molto io sono insomma lo sentirete anche voi i sondaggi lo dicono almeno la metà degli italiani dice ma a noi cosa ce ne frega dell'Ucraina e a me me ne frega che prendo 1400 euro adesso il pane e le spese e la benzina costa il 40% in più mi dispiace per loro ma noi siamo padroni a casa nostra ma guarda in realtà poi proseguendo nel dibattito sia Barbara e ora le risposte anche di appunto di Roberto Chiarini hanno già insomma quello che volevo osservare solo innanzitutto ho apprezzato tutte e quattro le relazioni un collegamento tra quanto diceva Roberto e Giovanni credo che è anche una possibile risposta ma non poi la parola Giovanni ad Alessandra l'anti-antifascismo è probabilmente uno stato d'animo di gran parte dell'elettorato democristiano sin quasi dall'immediato secondo dopoguerra soprattutto in certe aree del paese è proprio quello stato emotivo che Ben ha riassunto Giovanni e quanto riguarda l'ultimo passaggio di Roberto sul fatto della memoria mi viene da dire che quello che su fini poteva essere ancora fatto oggetto di particolare pressing anche per la compresenza di un personaggio la cui figura poteva essere schiacciata più o meno arbitrariamente su quella di Mussolini cioè Berlusconi e quindi trasformare l'antifascismo come antimussolinismo in anti-berlusconismo di acqua sotto i ponti il cosiddetto post-moderno ne è passato nei 25 anni abbondanti dopo Fuggi 27 e fondamentalmente come antagonisti ci sono partiti che non sono nemmeno più post-comunisti sono post-tut post-post-post e quindi sostanzialmente anche la la questione che pone usando le categorie molto utili anche di Giovanni l'antifascismo adesso è quello è solo diciamo un aspetto che aveva originariamente progressismo infatti su che cosa la Miloni viene tallonata sul discorso se andranno a ledere a toccare i diritti civili quindi fondamentalmente oggi siamo soprattutto per questo discorso generazionale nonostante siamo qui in un convegno di storia però è che fondamentalmente la storia non è più diffusa divulgata insegnata dunque anche la memoria non può essere più spesa politicamente con gli effetti validi e ogni anno che passa è un decennio secondo me per il mondo dei social eccetera eccetera un discorso che va sul sociologico grazie grazie Danilo non so se Antonio no sì una domanda che volevo porre a Giovanni perché la questione del legame all'Europa come strumento di educazione nei confronti italiani il mio inizio nasce molto presto perché io sono convinto che nasce con De Gasperi perché mi sono sempre posto alla questione ma perché questo attaccamento alla CED alla CP all'Atlantismo no e dopo me lo sono spiegato una risposta penso sia nelle elezioni del 53 in cui se mettiamo da parte il fatto che quasi il 45% degli italiani hanno votato per partiti antisistema comunisti socialisti monarchici missini voglio dire i votanti gli elettori democristiani erano cioè il loro attaccamento alla democrazia era così forte cioè ci sono dei sondaggi sugli elettori democristiani il 53 in cui posti di fronte alla domanda ma che cosa pensa di Mussolini eh sì ha sbagliato nel 1940 perché ha fatto la guerra però ha fatto delle cose buone il fascismo non era così male allora è chiaro che per De Gasperi io ho a che fare con una democrazia che è debolissima cioè persino quelli che sono in teoria democratici insomma di democratico c'hanno c'hanno poco allora è chiaro che il punto di riferimento è la Francia che ne so il Belgio l'Olanda gli Stati Uniti cioè tutti quelli che hanno delle democrazie che sono radicate radicate nel tempo allora è l'Europa la costruzione europea eccetera eccetera anche l'alleanza atlantica ovviamente il rapporto con il rapporto gli Stati Uniti e a mio giudizio questo si ripropone in parte ma in misura in misura minore il discorso parlavamo prima della maggioranza silenziosa all'inizio degli anni 70 che però mi chiedo è una risposta cioè io sono nostalgico del fascismo o soprattutto non mi piace queste cose nuove che stanno sorgendo dopo il 1968 no? per cui non mi piacciono i capelloni no? non mi piacciono quelli che vanno in strada e sono d'accordo a mio giudizio alla fine dei conti ormai non è più questione di fascismo è questione di progressismo è il termine a mio giudizio esatto cioè sì poi ci mettiamo il fascismo come come etichetta no? però ma cioè voglio dire ma chi se lo ricorda il fascismo diciamoci la verità cioè noi che stiamo in questa stanza ecco diciamoci con franchezza gli altri hanno questa vaga idea però poi la questione è oddio i diritti gli immigrati queste sono le cose che a mio giudizio col fascismo e l'antifascismo entra abbastanza poco allora regolo molto rapidamente poi in parte già Danilo ha anticipato alcune cose no? ma dopo dopo il 45 naturalmente c'è una parte importante del paese che è fortemente sì così sono pure più vicino che sta e no quello che volevo dire appunto è c'è una parte di paese che naturalmente accetta sposa questa idea della politica come luogo di trasformazione però c'è una parte di paese che invece è molto più resistente e in fondo sì sono quelli che votano la democrazia cristiana c'è una parte di quelli che votano insomma altrimenti non si capisce il movimento dell'uomo qualunque poi ci sarebbe da riflettere sul fatto che una parte di questa una parte importante di questa ribellione è meridionale cioè c'è una componente geografica lì che fa parte anche di un rapporto con le istituzioni di sfiducia nelle istituzioni di percezione delle istituzioni pubbliche come diciamo come avversario nemico da cui proteggersi però una parte secondo me importante della democrazia cristiana degli elettori vuole quella roba lì cioè tutto sommato gli va bene un partito come la democrazia cristiana che sì è un partito di massa un po' ti reggimenta un po' ti rieduca però essenzialmente ti rompe abbastanza poco le scatole poi dopo ci sono periodi ci sono ondate ci sono fasi secondo me e no certamente insomma il problema è che secondo me a partire dagli anni 70 noi entriamo in un'altra proprio fase storica non solo in Italia nella quale l'idea è che tu il mondo non lo cambi più attraverso la politica non è più quello il luogo dove cambi il mondo lì rientra il tema del moralismo secondo me cioè il tema del cambiamento della coscienza individuale che è un tema che ovviamente attraversa tutto l'antifascismo che è molto forte che però diventa ancora più forte secondo me nel progressismo a partire dagli anni 70-80 la questione morale di bene e guerra è una cosa secondo me molto più articolata e molto più politica in realtà però in definitiva la matrice di questo è la matrice dell'Europa orientale che ormai l'opposizione si fa sul piano etico sul piano morale e lì secondo me Antonio cambia anche perché è chiaro che l'Europa da subito per tutti ma pensa alla Germania l'integrazione europea è il luogo che ti deve reinserire dentro l'occidente quindi è chiaro che ha un ruolo educativo importantissimo però è un ruolo educativo per così dire sistemico non è una cosa che deve proprio cambiare la singola persona e tu devi invece a partire poi dagli anni 80 forse ancora di più dagli anni 90 c'è proprio un'ideologizzazione spinta dell'Europa diventa proprio un cleavage politico e devi essere a favore devi e lì secondo me cambia qualche cosa cambia qualche cosa basta perché qua io ringrazio Giovanni e ringrazio anche voi di essere stati qua fino a questo punto grazie a tutti coloro che sono intervenuti ragazzi a cui ovviamente sono andati via anche quelli che sono di questa mattina grazie a tutti i relatori io vi ricordo solamente il terzo appuntamento di questo convegno cent'anni dopo il fascismo nella storia d'Italia che si svolgerà venerdì prossimo all'università Cuglielmo Marconi una tavola rotonda sulle interpretazioni oggi che inizierà sempre alle 9.30 anche quello sarà disponibile cioè si potrà assistere in presenza oppure online grazie a tutti 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 grazie a tutti